è giusto, è giusto quando sei un fallito va così ogni stagione ha la stessa frase ragazzi che bello ma no manco a far così va bene allora dai cominciamo 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 e con tutti gli anime della precedente stagione che sono continuati in questa stagione qua allora io comincerei da a sto punto quelli che ho visto pure io e poi lascio la parola a voi per i Ruma, Urusei e Tu Your Eternity ovvero My Rockademia, Bluelock e Eminence e Shadow di questi in realtà ne abbiamo parlato anche abbastanza a lungo nelle precedenti live quindi tranne vabbè Eminence che è finito più di un mese fa quindi forse è passato un po' più di tempo però allora per quanto riguarda iniziamo con My Rockademia quindi My My Rockademia ecco, anzi andiamo proprio nella parte Leftovers My Mid Accademia lo dici a qualcuno non ti permette non ti permette e boh My Rockademia questa stagione per quanto mi riguarda l'ho già detto è stata praticamente la migliore stagione di Myro solo che in questo caso secondo voi è da considerare la seconda metà immagino non tutta perché la prima metà di Myro è un conto la seconda secondo me è un po' peggio ma non so perché c'erano persone che mi dicevano eh non so perché c'erano persone che mi dicevano che la seconda parte di questa sesta stagione era pure meglio della prima secondo me no secondo me non c'è paragone eh per carità è carina si scoprono delle cose interessanti però la seconda parte di questa sesta stagione non mi è parsa chissà cosa quindi così non mi verrebbe proprio da dargli SS sinceramente credo che ma guarda che il prossimo episodio il prossimo episodio è il migliore ah il prossimo è il migliore quello si fa la combo è il fratello di di Tokyo Revenge se dobbiamo considerare solo questa seconda parte da altrimenti di S no e allora io considero il fatto che alla prima parte gli avrei dato SS penso credo che per quella parte lì mi pare che gli avevamo dato SS la prima parte o no tre mesi fa quindi forse era S però sì o S era S comunque c'è è anche un voto sull'otto più quindi ci starebbe pure però sì è vero è vero diciamo io sarei indeciso tra S e da la prima se non farei la media se la prima parte da SS e l'altra da cioè la media viene S beh sì la prima parte da SS io sono Gesù Cristo vabbè vabbè dipende scusa nel senso scrive andate a vedere dove andiamo a vedere dove l'abbiamo messa semplicemente andiamo a vedere dove l'abbiamo messa Reanime Alive Recap Autunnale perché in base a dove l'avevamo messa in base a dove avevamo messo Myro Accademia lo si capisce dove poi va questa parte qui l'abbiamo messo in S quindi a sto punto mettiamo in A questa parte vabbè nel senso ci può stare ripeto alla fine io la considero un gradino un gradino sotto la prima parte se la prima parte è da S questa l'A un po' forse cattivello per certi versi però ci sta non è che fosse una cosa incredibile questa seconda parte forse è ipato un po' troppo sì forse è ipato un po' troppo anche la parte di Lady Nagant ci hanno marciato molto sopra è stata bella per carità però però insomma forse l'A è un giusto compromesso anche se in chat tutti ricevano S quindi non lo so non sono d'accordo vabbè per adesso lasciamo line A poi valutiamo in base anche ai prossimi anime che ranchiamo e vediamo però sì meno di A impossibile tra S ed A poi prossimo anime Bluelock Bluelock anche è difficile è difficile da valutare secondo voi tra la prima parte i primi 12 episodi e gli ultimi 12 episodi quali sono meglio? il primo episodio eh vabbè è quello ok è quello ok i secondi sono meglio con le storie a me sinceramente non ha mai a me non ha mai preso nessuno delle due parti cioè lo guardavo diciamo ok vabbè però insomma manco fa così ci stavano degli episodi ma non da dire al capolavoro no 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 quello no quello no però diciamo che anche qua io non sono proprio come vi ho sempre detto un grande esperto di Spocon però questo in particolare a livello di storia a livello di concept e tutto quanto mi ha preso molto mi è piaciuto molto il problema di Bluelock lo sappiamo tutti qual è la qualità generale di tutto di disegni animazioni inesistenti e tutto quanto quindi questa effettivamente è una grande pecca però comunque secondo me la seconda parte è meglio della prima mi pare cioè che nella seconda parte si siano successe delle robe molto più fighe rispetto alla alla prima parte di Bluelock anche l'episodio finale cioè con il plot twist si sta secondo me alti passi lo dico io il fatto è che cioè allora non lo so qua non lo so dove andrebbe messo io credo che lo vorrei io credo che lo vorrei mettere in A Bluelock nel senso B mi sembra cattivo B mi sembra proprio cattivo per Bluelock no io lo vorrei mettere in A il fatto è che non considerando non considerando troppo cioè non considerando troppo la cosa del powerpoint io lo metterei in A se non fosse che appunto cioè è particolare è particolare ma che altro mettilo in delusione ho provato a farmi piacere pure la storia non mi piace manco la storia cioè trovo i dialoghi veramente si vabbè è una tamarra ah dici i dialoghi di Bluelock troppo brutti sono troppo brutti sono d'accordo Lele sono troppo brutti hai muo hai muo senti le tigre sembra un ragazzino di 15 sembrano dei dialoghi fatti da un ragazzino di 15 anni che sta vivendo il momento ecci della sua vita vabbè effettivamente però c'hanno tipo 16 anni questi quindi diciamo che è un po' sì però particolare cioè pure l'andamento della storia mi abbia convinto più di troppo no allo stesso livello di Mairo no però io più vicino io metterei no ci è impossibile secondo me nel senso è cattivissimo cioè alla fine comunque è stato un bell'anime secondo me in questa stagione ma non so come mai lo ricevete così così brutto però io bigliela darei a Bluelock cioè se abbiamo dato a Mairo Accademia via Bluelock ci sta se vuoi fare una media questa season Mairo Accademia è da S se vuoi fare una media non so se finisce in via di quello che dicono qui cioè per esempio Alina Andre no io l'ho detto a me non sinceramente Bluelock mi è piaciuto dall'inso alla fine cioè ho quegli episodi belli ma non è che mi ha preso quindi dove lo metti io sono per la B io sinceramente andrei anche sulla E cioè vabbè dai vabbè dai però mo mo perdonatemi io ok che è giusto è giusto fare un voto democratico e tutto quanto però se facciamo così Bluelock se ne va tipo un'insufficienza capisco pure la delusione dei manga reader però mi sembra esagerato mi sembra esagerato intanto mi sa che lo leggo sul mio mezzo quindi non è che sto dicendo del voto sto dicendo a me cioè a me è sinceramente vabbè se a te non ti è piaciuto assolutamente però io in questo caso io in questo caso farei valere la mia autorità di proprietario del canale e eviterei un'insufficienza per Bluelock poi il fatto sapete qual è che Bluelock cioè se come dire facciamo una media magari lo mettiamo pure in C cioè Bluelock se ne va insieme a robe inenarrabili quindi secondo me non si merita di andare insieme che cazzo ne so a Spy Classroom che non so dove andare a Spy Classroom c'hai capito? quindi non no 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 quindi io anche qui se ho messo My Rockademy in A a parte che effettivamente in chat dicevano pure S mo vediamo io metterei Bluelock in B e poi vediamo anche in base ai prossimi anni dove vengono piazzati perché ho paura poi che Bluelock venga messo insieme a certa merda assurda vabbè sì vai mettiamolo in B e via così poi abbiamo Eminence e Shadow qui credo che più o meno saremo quasi tutti d'accordo nel senso per quanto mi riguarda Eminence e Shadow la seconda parte è andata solo che a rafforzare e a migliorare quello che avevamo già intravisto nella prima parte io lo considero a mio modo di vedere una rivelazione praticamente non che lo metterei adesso in rivelazione perché insomma dopo la prima parte magari ce lo aspettavamo pure però non mi sarei mai aspettato che mi sarebbe piaciuto così tanto in assoluto tra i migliori Sekai degli ultimi anni e poi protagonista fighissimo le gag alcuni dicono che non sono chissà che a me fanno anche a me fanno abbastanza ridere le gag di Eminence e Shadow cioè è un anime che mi mette molto secondo me sono fatte bene mi mette abbastanza allegria a CID in generale secondo me sono fatte bene e io sinceramente penso che gli darei S senza problemi a Eminence e Shadow io sono d'accordo sono d'accordo sono d'accordo nel senso SS forse no perché la perfezione non la raggiunge però merita merita comunque va considerato secondo la season attuale non è che vedi la terza aspetta non è che vedi la scorsa che stava in mezzo ad altro quindi S e Myro Academia considerando questa season se no fai la tier dell'anno e no no ma infatti ripeto ci potrebbe pure stare Myro Academia in S l'abbiamo detto prima quindi sì effettivamente se dobbiamo mettere Eminence in S io metterò anche Myro Academia no ma poi considerando che voi volevate mettere Blue Lock molto sotto a tutti gli altri quindi a sto punto due gradini per fare un po' una separazione più netta tra Myro Academia e Blue Lock due gradini ci possono pure stare ma perché non favo anche tre mettilo in cima sì ah dici così no però vabbè anche Eminence insomma direi che è giustissimo spero che la seconda stagione manterrà non so se voi avete letto il manga ma spero più o meno manterrà i livelli di questa qui e e boh tanta roba tanta roba secondo me Eminence è destinata a calare perché no 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 dicono C per Blue Lock ma Eminence guarda sì potrebbe calare per la questione che magari se diventa un po' ripetitivo a livello di gag di scene comiche potrebbe calare secondo me è un anime che o trova il modo di reinventarsi tipo arriviamo alla seconda o alla terza stagione e cambia un po' tipologia di roba diventa ma non so se definirlo un po' più serio però senza travolgersi troppo perché altrimenti poi no no però magari cambia nel senso che attualmente ad esempio Cid non sappiamo neanche bene cosa vuole fare magari capire un po' meglio l'obiettivo finale di Cid rendere Cid va benissimo così perché il suo personaggio non deve avere un obiettivo altrimenti poi è lì che si crea il problema ma se si pensa a vedere un obiettivo no più che altro dovrebbero dare più spazio agli altri personaggi una cosa che potrebbe migliorare Eminenzi Shado dare un po' di spazio agli altri personaggi ci potrebbe stare detto questo secondo me Eminenzi Shado da come lo percepisco io è una di quelle serie che avrebbe bisogno di poche stagioni cioè non la vedo una serie che dura per 4-5 stagioni cioè anche perché appunto potrebbe farlo tranquillamente non è che bisognerebbe inventarsi chissà cosa però perderebbe molto cioè se arrivassimo a una quarta a una quinta stagione in cui più o meno fanno sempre le stesse cose succedono sempre le stesse robe anche parliamoci chiaro anche a Yem Atomic la frase celebre di Cid se la facesse più volte ogni stagione alla quarta quinta volta che la senti perde un po' di efficacia quindi non so se riusciranno a mantenere sempre l'asticella alta a farci vedere sempre robe più fighe oppure no io mi spererei per questa serie qua che abbia poche stagioni per fare in modo che non diventi che non diventi bruttina però detto questo secondo me una S ci può stare è protagonista centrico molto molto anche cioè il senso gli altri personaggi ci sono ci fanno anche vedere tipo ad esempio dove cazzo stavano vabbè lasciamo stare Delta Gamma e quelle altre che sono un po' inutili però Aurora credo la questione di Alexia oppure Aurora sì oppure in realtà comunque ci vengono presentati pure la roba di Oliver non tanto l'eroe Oliver ma la sorella di di Alpha la sorella di Alpha che non era la sorella la zia la zia di Alpha che la cerca quelle robe là ci sta qualche sottotrama di altri personaggi però per ora non è minimamente stata trattata quindi vediamo un po' e poi prossimo anime e qui ovviamente lascio parlare voi ovvero andiamo con Hirumakun 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 io non ho visto nessuna stagione di Hirumakun questa era la terza stagione e tra l'altro anche questo è un Isekai non è un Isekai questo sì è un Isekai ma questo è da recuperare in generale tipo per il discorso di Ascendance e Drifters in generale sì però questa terza stagione è un downgrade rispetto a Sion ok quindi tra di voi chi l'ha vista? Anto Sirion Hashem io Anto e Sirion l'abbiamo vista ok quindi stavate dicendo una stagione un po' più sottotono un po' deludere però comunque non la dovrebbe analizzare più di troppo sì diciamo è un'intera stagione su un torneo e per la durata che ha secondo me non ne vale un po' lento un po' lento diciamo anche per la costruzione che ho stata mi sarei aspettato di più sinceramente quindi comunque la peggiore tra tutte e tre le stagioni poi tra l'altro anche ora che ci penso pensavo è una roba lenta vabbè dai 12 episodi 21 episodi no se tutte e tre 21 episodi effettivamente 21 episodi se anche lento so un po' pesantucci sì è la peggiore tra le tre quindi Hiruma è un Isekai molto valido è la qualità dell'animazione che lascia a desiderare ah questo non me l'avevate mai detto non è vero ma no non è normale in realtà è animato decentemente il problema non è il problema l'animazione alcune volte c'è anche dei piccoli picchi di animazioni diciamo quindi diciamo che ci sta non è che ha particolari problemi sì no ma non è sicuro sopra la media rispetto a diciamo quelli là che trovi delle merde che trovi in giro giustamente e dove lo mettereste in questa classifica b shenvi dice b io lo metterò in c sirion dice c quindi siamo a metà per adesso per me è un 7 basso quindi se siamo in 7 basso dovrebbe essere più b che c ci sta zona lombare che dice e e addirittura così cattivo e quindi considerando appunto shenvi in b sirion in c e anto in b lo mettiamo in b o c'è qualcun altro che vuole esprimersi vedo più b che altro sì vabbè in chat a parte zona lombare che ci è partito un po' cattivello la maggior parte dice b una merda mazza proprio così cattivo ma come mai ti ha fatto così schifo sta terza stagione com'è non stiamo più come e non stiamo non stiamo votando più blu lock what vabbè comunque quindi come come blu lock ah per quel motivo per quel motivo ma cioè per me possono stare tranquillamente insieme sì sì è anche una generosità più che altro cioè più che altro blu lock avesse avuto le animazioni e i disegni che meritava se ne andava tranquillamente in A tranquillamente ma anche fossero stati decenti cioè non per forza stupendi fossero stati decenti in A senza problemi comunque bisogna pure dire che secondo me è capitato un compito bello difficile il carcere è difficile da animare ad anime certo quello è vero però manco a fa cioè proprio manco a dire vabbè a gettare la spugna è troppo difficile vaffanculo basta non facciamo niente perché è sembrato proprio così che l'hanno trattato magari lo usciranno un po' più di tempo sì non lo so sì ma infatti il motivo principale per cui Bluelock è stato fatto male dicono che si è stato fatto per la cosa del mondiale dato che stava da lì a poco c'era il mondiale ma effettivamente magari è stato pure così ha venduto di più cioè essendo uscito infatti mi ricordate pure i meme sul Giappone che vinceva le partite ispirati dal Bluelock l'egoismo quella roba là cioè ha avuto senso ha avuto senso far uscire Bluelock in quel periodo però probabilmente il fatto che è stato fatto uscire durante i mondiali vuol dire che ci hanno ci sono dovuti sbrigare e il risultato è questo quindi potremmo fare due curve magari per risolvere quello che voglio dire è che il calcio è uno sport molto più dinamico rispetto ad altri che puoi animare cioè è molto difficile se noti anche tutti gli adattamenti che sono usciti sul calcio quanti ne trovi effettivamente di qualità ci sta ci sta va bene quindi Hirumakun se ne va in B adesso andiamo con l'ultimo anzi gli ultimi due anime che continuavano nella stagione invernale ovvero Urusei Yatsura e Tuyori Eternity andiamo prima con Urusei Yatsura chi l'ha visto? sono droppato io e Anto io Anto e Andre non ce la facevo più abbiamo completato ah l'avete finito? l'avete? no Anto l'ha droppato non ce la facevo più vabbè quindi Anto gli sta sul cazzo già l'avevamo capito la scorsa volta perché vabbè è noioso lo ritieni noioso immagino comunque è una tortura invecchiato male probabilmente questo o ti piace perché riesci a passare sopra le cose che sono gli stereotipi o la mente nel dopoguerra o la mente tornati dal 1964 oppure ti piace vabbè sarò un vecchio di merda ma è piaciuto sarò un vecchio di merda allora no ma alla fine insomma considerando come dire l'obiettivo che aveva Urusei Yatsura considerando l'obiettivo di Urusei Yatsura ovvero di quello di fare un remake della serie originale in veste del 2023 ha raggiunto il suo obiettivo nel senso è stato effettivamente un remake fedele dell'originale con una qualità mi pare fatta abbastanza di Cristo la qualità è la qualità niente da dire il problema è appunto che più che altro hanno proprio trasposto l'opera in sé che è più adatta per il 1900 quando è uscito piuttosto che il 2022 ma io l'avevo notato fin dal primo episodio ve l'avevo detto ovvero proprio anche dal primo episodio si nota proprio che le gag comiche che utilizzano il comportamento dei personaggi le cose che succedono sono proprio delle robe degli anni 90 che a una persona come me che io non avevo mai visto Urusei Yatsura da piccolo non cioè visto il primo episodio ho detto si bello effettivamente è un remake fatto bene ma non mi dice niente cioè non lo continuerei mai e questo penso sia anche la cosa che a voi non è piaciuta quindi adesso dovrebbe uscire pure una seconda parte di altri 24 episodi a una seconda stagione ma questo qua alla fine è un anime che piace penso sia stato fatto semplicemente per le vecchie generazioni cioè per le vecchie generazioni che tutti conoscono tutti conoscevano Urusei Yatsura un anime comunque molto famoso e quindi se lo guardano quelli cioè le persone nuove che hanno 10 anni che si ritengono fan di di vecchie generazioni chi chi ha capito ha capito eh niente vabbè vabbè più che altro l'unico problema di Urusei Yatsura è che non capisco in che modo cioè forse non ci hanno nuovo pensato a questa cosa a attirare nuovo pubblico cioè io sfido chiunque adesso che si vede Urusei Yatsura magari a non lo so cioè secondo me non è che un anime del genere il 2022 attira così tanto come nuovi fan di magari persone che hanno 15 anni 20 anni così non lo so ecco mi presente no no può capitare può capitare però in generale non credo che funzioni troppo un anime del genere fatto uscire adesso detto questo quindi dove lo piazziamo dove lo piazziamo io guarda proprio per essere buono C ok Shenvi dice C qualcun altro io ho preso anche il manga perché lo voglio leggere tutto a me è piaciuto sinceramente da metterlo ho io dato 8 perciò la metterai in A ok quindi una media una B per adesso c'era qualcun altro c'era qualcun altro vabbè se considera il mio troppo a me è sotto la E quindi di troppo ah madonna santa e vabbè cioè se tu gli dai la E allora vuol dire che lo mettiamo in insufficienza Rosè Yazzura Alin l'ha visto un po' mi mancano 7 episodi quindi vabbè qualcosina forse non credo che in 7 episodi cambia così tanto diciamo più o meno un po' come la prima parte che io voglio leggere una C a questo punto magari possiamo metterlo in C andiamo sulla C sì due C una A e una E mettiamolo mettiamolo in C che tocca fare che tocca fare mi dispiace purtroppo la media questa è stata in chat in realtà molti optavano più per la cosa alta cioè per una B almeno però nella D metteremo certa merda eh lo so lo so allora secondo me A era un po' troppo considerando anche le cose che vi ho detto non credo che si meritava di stare sopra a Blue Lock o A in Umacoon non l'ho visto però forse la B ci poteva stare però comunque voi avete votato ma per ora ci va benissimo in certa qualità sta sopra a Blue Lock e qui concordiamo tutti e qui ho detto tutto vabbè quello è ovvio ma quello è ovvio ma soprattutto in realtà penso sta sopra molti anime di questa di questa tier list cioè di qualità mi pare sia fatto ma per ora penso che da tutti quelli che abbiamo arrancato è il migliore eh quindi sì da sto punto ma infatti già solo per questo per il fatto che comunque il remake è fatto bene gli si potrebbe gli si potrebbe dare infatti diciamo che carica la qualità dai poi ultimo anime della di quelli vecchi ovvero Tuoi Ore Eternity ecco qua sono curioso perché io volevo recuperarmelo e effettivamente non so se merita non merita com'è questa seconda stagione nel complesso la prima stagione la prima me la ricordo molto bene diciamo che cambia completamente il registro cioè diventa completamente un'altra cosa ok da poco ci sta non mi è dispiaciuta ha avuto nella prima parte soprattutto dei problemi di ritmo narrativo regali quindi non solo nel primo episodio era proprio nella prima parte un po' di assestamento più che altro dimmi i bisogni poi nella seconda parte inizia questo mega arco che poi tra l'altro forse mi sono pure spoilerato una cosa perché mi pare di aver visto è una roba che succede riguardante al futuro di Fushi però non voglio dire altro non voglio dire altro e mi sembra molto figa come cosa infatti sarei curioso di recuperarmelo per questo motivo le copertine sono tutte spoilerose dopo questa stagione le copertine sono tutte degli spoiler clamorosi che non ci voleva un genere per capire dove dove avessi andare a parare c'è un focus su più personaggi in questa seconda parte che vengono esplorati un po' di più rispetto alla prima c'è anche Gugu sarà ovviamente la trasformazione eh sì quindi ci sono un po' più di approfondimenti e poi anche il modo in cui si chiude questo diciamo arco questo mega arco che penso si è durato almeno dieci episodi c'è tutta la seconda parte tutto in arco intero mi si chiude pure abbastanza bene quindi sono deciso tra la B e la forse B più di altro perché qualitativamente non è che allora in principio volevo chiedervi due cose due dubbi che mi voglio togliere la prima Isame ma è una rompe il cazzo nella serie o perché nel primo no si è una bambina però è un bel personaggio o no più o meno non la ripeteremo più non si vede più un episodio perfetto perfetto però ci sta un penato che rompe abbastanza il cazzo perfetto perfetto e poi come seconda cosa semplicemente se è meglio o no della prima stagione è la domanda principe secondo me no la seconda parte sicuramente confondendo la seconda parte di questa con la seconda parte della prima sicuramente oddio però effettivamente allora consideriamo che comunque la seconda parte della prima non dura molto la parte brutta della prima stagione saranno tipo 5-6 episodi non è che la seconda parte la seconda parte vabbè no secondo me stanno quasi sul stesso piano rimane comunque sotto rimane comunque sotto ok quindi un po' sotto rispetto alla prima detto questo quindi che voti gli dareste io sono più per la B ok Anto dice B idem anche Andre dice B io pure direi una B alta non mi stupirei mettere una B alta direi B alta va bene quindi primo della B magari posso capire l'altro il fatto è stato anche un po' meglio vabbè 4 episodi non sono droppi Alin però e poi soprattutto non cambia la opening quindi vergognoso ah è il fatto che non cambia la opening effettivamente è molto vergognoso molto vergognoso no me ne frega vabbè comunque pure in chat dicevano A o B quindi B in realtà alcuni dicevano A in chat sì ma infatti non mi può stare però oddio cioè la seconda la prima parte che contro la seconda parte della prima si equipagano cioè dipende secondo voi è meglio di Ruma e Bluelock perché alla fine stiamo considerando questo non stiamo considerando in generale e allora mettiamolo in A a questo punto sta lo spazio vuoto mettiamolo in A a no B va bene è Key Games però all'ultimo te ne esci quindi mi spiega troppo tardi quindi questi sono i 6 anime della stagione autunnale che continuavano nella stagione invernale adesso possiamo passare a vedere tutti gli anime nuovi della stagione invernale che li vediamo appunto dalla guida qua e faremo un cambiamento ovvero non andremo a sentire tutte le cose che dico perché in alcuni casi non serve tipo Villain Saga l'avevamo messo in SS non serve che sentiamo quello che dicevo su Villain Saga a meno che magari non veniamo smentiti del tipo magari se Villain Saga dicevamo che era da SS e poi si rivelava essere da si è rivelato essere da C al limite lì andavamo a capire effettivamente cosa cosa avevamo detto per vedere effettivamente le differenze però vabbè Villain Saga l'avevamo messo in SS che abbiamo da dire su Villain Saga per adesso io posso dirvi io posso dirvi che non mi aspettavo una deriva del genere anche se me l'avevate detto io pensavo che voi memaste pensavo che dicevate cazzate Farmland Saga il contadino tutte queste cose pensavo fosse una cacata effettivamente non lo era è stato così cioè Villain Saga 2 a tutti gli effetti è Farmland Saga però comunque sono riusciti a rendere questa parte interessante a parte vabbè i tizi che commentano dicendo che è una merda non ci sono le botte è nuioso Thorfinn fa il gay quindi a me sta piacendo il fatto che nonostante non ci siano combattimenti e nonostante non succeda poi chissà cosa comunque io lo sto trovando interessante secondo me è solo un plauso per quanto riguarda Villain Saga per carità secondo me nel complesso non è stata proprio la perfezione cioè abbiamo avuto magari uno o due episodi un po' lenti un pochino magari non per forza incredibile semplicemente perché presentavano personaggi non succedeva proprio quasi niente però nel complesso comunque considerando appunto il setting e tutto quanto ovvero semplicemente Thorfinn che fa lo schiavo secondo me se la sono gestita molto bene questa stagione qua ma secondo me per ora prende la prima stagione gli dà proprio una pista clamorosa su questo su questo non te lo so dire nel senso gli dà una pista dal punto di vista dell'evoluzione del protagonista su quello ovviamente però per il resto ma pure i personaggi secondo me cioè ok e però capito in questa stagione chi altro ci sta Einar Einar però non è che ha una storia è Canudio infatti stavo dicendo Canute e Thorfinn Canute e Thorfinn hanno avuto un bellissimo sviluppo però a parte loro due finisce là in questa stagione non ci sta nessun altro comunque già se vai a vedere che ne so per esempio pure un personaggio come Olmar un esempio che nella prima stagione quanti ne sono effettivamente approfonditi pure nella prima stagione Thorfinn infatti guarda andiamo a vedere la prima stagione allora di personaggi belli di personaggi belli ci sono Thorfinn Askeladd vabbè Askeladd comunque in realtà allora Canute pure l'avevano un po' approfondito non come in questa però qualcosina qualcosina aveva fatto pure Thorfinn è un bel personaggio anche qua non parliamo di sviluppi incredibili però era un bel personaggio dura poco sì dura poco e poi a parte questi è un bel personaggio Thorfinn è a parte questi pure Thorfinn Thorfinn in realtà ok che non ha approfondimenti però funziona molto bene Thorfinn secondo me come vikingo nel cuore viene utilizzato è veramente figo è top non è un grande personaggio però è utilizzato bene quando soprattutto quando ce n'è bisogno c'è stato anche Bjorn nella prima comunque comunque sapete cosa secondo me in generale è meglio la prima stagione perché riesce a unire sia approfondimenti o magari cose un po' più profonde un po' più personali anche se in maniera minore rispetto a questa seconda stagione con comunque combattimenti sequenze o magari anche cose un po' più di azione perché magari voi preferite una roba un po' più appunto di approfondimento e tutto quanto però a me la cosa che piace di più è quando riesce quando ci sta un connubio delle due cose ovvero party action con party di approfondimento con robe significative quindi mo' addirittura da dire che questa seconda stagione è meglio della prima ti potrei dire sì dal punto di vista magari dell'evoluzione del protagonista e di alcuni personaggi sì però nel complesso io preferisco 11 episodi infatti io per adesso di questa prima parte di questa seconda stagione non posso dire che la preferisco mai nella vita la prima io per adesso preferisco molto di più la prima a questa seconda ecco la prima parte della prima non me la ricordo troppo quindi forse però comunque sono due cose diverse sono due cose totalmente diverse a livello di come viene approcciata ci sta che alla gente non piace la seconda stagione hanno avuto una prima improntata in un determinato modo e poi si beccano la seconda con i contadini da qui capiscono o meno se continuare villain io personalmente sto trovando la seconda migliore della prima no ma infatti è probabilmente questo è una sorta di spartiacco in cui le persone che erano abituate alle botte dicono vabbè che cosa faccio lo continuo non lo continuo probabilmente molte persone non lo continuano quindi è una cosa secondo me compensibile cioè è come se non lo so Mario Accademia fino alla sesta stagione un po' troppo però è in un modo poi alla settima stagione diventa Evangelion magari molte persone si cagano il cazzo e non lo vedono più ci può stare come roba solo che vabbè secondo me banalmente sarebbe come se l'arco di Deku vigilante fosse durato per chissà quanto tempo e fosse andato anche un po' più nello specifico nel profondo andando a stravolgere il nucleo della serie magari qualcuno non gli sarebbe piaciuto e se ne sarebbe andato stessa cosa qua comunque per riassumere secondo me questa prima parte della seconda stagione non supera la prima ma per il semplice fatto che è la prima parte nel complesso potrebbe superarla cioè adesso prima vedremo gli ulteriori 12 episodi che devono uscire secondo me potrebbe superarla è una bella stagione cambia parecchio rispetto al Villain Saga originale ma non vedo perché questa cosa dovrebbe essere una roba negativa anzi quindi secondo me vabbè SS che gli devi da cioè poi si sente si sente poi che la Campo della Tempesta sta prima parte l'hai messo in C l'hai messo ah infatti l'ho già messo in C infatti diciamo che cazzo sta quindi si SS ma per il semplice fatto che non lo metterei insieme a questa seconda parte di Miro Academy ne insieme a allora per quanto mi riguarda magari lo avrei pure messo in S perché sono sicuro che la seconda parte forse mi piacerà o comunque ho molto più hype per questa seconda parte che per quello che abbiamo visto nella prima parte però considerando che abbiamo messo Miro e Eminence in S e Villanzaga deve stare in SS anche perché c'è un'opera finalmente che dà una caratterizzazione al proprio protagonista abbastanza diciamo diversa questo a me piace veramente io spero genuinamente no non ho letto il manga eh ma infatti spero genuinamente che Thorfinn da qui alla fine alla fine non ammazzi più nessuno eh infatti ma pure io lo spero che non ammazzi però io spero che usi la violenza la violenza deve essere usata per difendersi o per aiutare o per aiutare magari una persona in difficoltà che la stanno ammazzando cose così però è quanto sia difficile perché secondo me prima o poi qualcuno toccherà farlo fuori scappa il morto sicuro ops mi è scivolata l'ascia magari per difendere che ne so per esempio Einar sta per morire e lo fa ammazzare qualcuno esatto esatto sicuramente succederà però se non succede comunque il paragone il paragone di First Sephiroth è azzeccatissimo con Attack on Titan ovvero cioè se pensate che le persone hanno molte persone hanno abbandonato Attack on Titan per via della terza stagione perché diventava troppo politico e non c'erano più le morti Villensaga ma stessa cosa anche con la quarta stagione l'amico mio che lo cito sempre ormai che non gli piace Made in Abyss non gli piace Villensaga e tutto quanto si può secondo me iscrivere in quella cerchia di persone che proprio non gli piacciono queste modifiche qua anche se ci pensate Attack on Titan dalla quarta stagione è cambiato totalmente Attack on Titan con la quarta è cambiato totalmente da quando Eren ha quel twist e ci spostiamo a Marley è un altro anime e a molti non è piaciuto infatti il mio amico ha detto non l'ho più seguito perché non mi piaceva più è una cosa che ovviamente io la ritengo sbagliatissima però bisogna semplicemente accettare che alle persone non piace il cambiamento cioè le persone se le persone vedono botte botte nella prima stagione botte nella seconda stagione botte nella terza stagione nella quarta vogliono vedere sempre solo botte non vogliono espandere un pochino gli orizzonti fare cose che poi non parliamo come qua di diventare Evangelion parliamo di rallentare un minimo di far vedere cose un po' più profonde un po' più personali parlando di Villain Saga quindi è normale è normale che molte persone si deve scorsare un po' di più se mi diventa un pacifista schippo e speriamo di no però non penso che ormai non farà niente Torfield non credo che sono proprio la carenza degli occhi in alcuni frame dà proprio un fastidio posso capire sì vabbè magari in alcune parti è un po' fastidioso la vedi anche in primo piano è cognoso ragazzi come si deve mettere poi prossimo anime abbiamo parlato molto di Villain Saga prossimo anime abbiamo avuto prima di andare avanti con gli altri anime che abbiamo trattato nella guida vogliamo fare ulti ah è vero ah è vero ci sarebbe attack on titan in realtà non l'avevo messo perché era un singolo episodio effettivamente è vero ma dove cazzo sta però sarebbe come parlare di un film è next book special mi sa è sotto nei film magari ma non non lo so regà vogliamo chiedo alla chat vogliamo fare attack on titan o lo lasciamo stare non lo trovo per qualche motivo è perché mi sa che non sta è uno special ah eccolo qua sì allora facciamolo facciamolo allora attack on titan lo aggiungo subito effettivamente mi ero scordato grazie Alin allora quindi attack on titan attack on titan e eccoci qua vabbè anche di questo ne abbiamo parlato molto a me è piaciuto lo special cioè niente da dire mi è piaciuto credo che il finale sarà il picco sarà il punto massimo è anche difficile da considerare da paragonare con queste altre con questi altri anime perché vabbè è come se fossero tre episodi è come se fossero tre episodi praticamente questo io non lo so sinceramente S io forse lo metterei primo della S lo metterei perché alla fine comunque è stato un bello special ma non è stato proprio la perfezione come molti l'hanno fatto passare secondo me c'è stato fin troppo hype con lo special di Attack on Titan cioè è stato bello è stato bello ma non è stato perfetto proprio in tutto e per tutto però la seconda parte secondo me se fanno certe scene animate di Cristo sarà veramente il picco cioè l'arco crime su questo qua mi è piaciuto da matte contro lei rolessi cioè a me è tutto il contrario penso che sia una delle parti che non mi piace di meno la parte finale di oggi The Blind diciamo che sono molto curioso ecco e io pure sono molto curioso di capire effettivamente se il finale di Attack on Titan sarà bello oppure no perché molti dicono che è bello molti dicono che è una merda tocca capire tocca capire per me non è nessuno delle due cioè è normale quindi secondo me la S se la può meritare però non lo metterei in una roba proprio bellissimo come perfezione però S è giusto My Hero Academia non è da SS è la seconda parte stiamo parlando della seconda parte di My Hero Academia quindi no la seconda parte non è da SS nel complesso forse nel complesso si l'avrei messo in SS però questa seconda parte no vabbè prossimo anime prossimo anime cosa abbiamo nella guida abbiamo abbiamo Nier Automata allora Nier Automata io mi limiterò a dire che non lo mettiamo nella tier list perché sono usciti 8 episodi però l'avevamo messo in S l'avevamo messo in S se adesso dovessi dire dovessi dirvi dove metterei Nier Automata o lo metterei in C o lo metterei in Delusione perché non mi sta piacendo non mi sta dopo 8 episodi posso dirvi che non cioè è assurdo trovo veramente strano che ancora non si capisce dove deve andare a parare trovo strano che ci troviamo in 8 episodi 2-3 episodi noiosi o fatti male tipo l'episodio del passato di quelle tizie o anche episodi in cui non succede una minchia lo sto trovando molto strano non so se fa parte di un piano più grande di una cosa più articolata che vedremo magari nel resto degli episodi perché io non ho visto il gioco quindi non so come stanno mischiando le root però parlandovi da anime Olli non mi sta piacendo quindi io lo metterai in cifra adesso io non dico delusione pure per i tempi per le tempissime la gestione ah vabbè per quello ovvio per le tempistiche di A1P delusione al 100% perché è scandaloso che me lo fai me lo metti in pausa me lo fai riprendere e dopo due episodi me lo rimetti in pausa cioè dai ma che vuol dire il punto è che la serie la serie sta abbastanza soffrendo di una mancanza di direzione precisa se poi tocca vedere un episodio al mese già non ti ricordi cosa è successo prima quindi comunque per adesso non mettiamolo ne riparleremo quando uscirà probabilmente a luglio lo continueranno non lo so però per ora per quanto mi riguarda è abbastanza deludente cioè io me lo aspettavo mi aspettavo una cosa da S adesso proprio se uno volesse essere gentilissimo forse una B ma non so proprio in quale universo quindi sì un po' una delusione mi aspettavo una roba da S invece massimo massimo B ah no comunque grazie al castecco per la S per ora è una C alta sì C alta però niente di niente di che poi andiamo al prossimo anime andiamo al prossimo anime che è qual era qual era il prossimo oh Nagatoro Don't Toy With Me Miss Nagatoro che era stato messo in C qua non credo che ci siano troppi problemi nel senso non credo che dobbiamo sentire cosa avevamo anzi guarda no beh non credo dobbiamo sentire cosa avevamo detto su Nagatoro però io non l'ho visto cioè ho visto i primi sei episodi posso dirvi semplicemente che per i primi sei episodi che ho visto lo metterei sicuramente in D perché i primi sei episodi non hanno aggiunto niente alla storia alla prima stagione e anzi l'ho trovato pure noioso poi non so però come continua quindi qua chiedo a voi se l'avete visto continua meglio sì ah migliora? decisamente meglio davvero? sì ma c'è lo sviluppo però per me cioè per me è sempre stata una serie su di io ho preferito questa la prima ma è che avevo già letto il mai ma quindi letteralmente l'abbiamo stoppato letteralmente nella parte peggiore sì sì qualche episodio prima due episodi prima sì però dopo dopo venire da sei episodi o inizio un arco di due tre episodi c'è una parte un po' migliore ecco quindi praticamente in 12 episodi ci sta un arco da tre episodi bello e il resto è solido se la cava però per me cioè a me non piace la serie in generale quindi l'ho trovata meglio della prima in generale ma non da tardi però comunque già solo il fatto che è meglio della prima non è ma quindi non ho capito a livello di proprio relazione di loro due ci sta qualche avanzamento qualche roba sì sì figo figo quindi già solo per questo in realtà è una cosa positiva io non vorrei dove lo mettereste dove lo mettereste io confermerei la c onesto io lo metterei in b però ah shambi dice b io rimango sulla d lo preferito sia lo sia preferito alla prima stagione che che vabbè sapevo il manga cosa sarebbe successo guarda considerando che a me la prima stagione non ha fatto così schifo credo che una volta finito l'avrei messo in b però dato che non l'ho finito considerando le cose che mi avete detto lo mettiamo in c cioè shambi ha detto b due persone hanno detto c anto ha detto d mettiamolo in c primo della c magari meglio di urusei vabbè comunque è uguale mettiamolo in c no meglio di urusei vabbè peggio di urusei c'è solo le eutanasie vabbè manca fa così ci vuole coraggio per metterlo in b no ma infatti questo non lo so insieme a blue lock è particolare però vabbè mettiamolo in c mettiamolo in c va bene così vabbè in zona lombare abbiamo capito che non ti piace l'uruma si deve continuare a insistere proprio e vabbè va così va così poi prossimo anime cosa abbiamo cosa abbiamo abbiamo oh spy classroom sentiamo sentiamo cosa avevamo detto cosa avevamo detto su spy classroom abbiamo anche questa tizia qua la loli voi sentite anche le la live il trappolone ci sarà vinto praticamente per niente sembra comunque avere un buono stile e va bene quindi una volta abbiamo adesso ci siamo espressi sulle waifu andiamo a vedere la tier list dove voi lo piazzereste allora sono sincero a me i trailer non mi hanno convinto i trailer non mi hanno convinto praticamente per niente sembra comunque avere un buono stile sembra avere molto waifu material però forse a livello di sostanza non è che avremo chissà cosa a livello di storia cioè loro che faranno delle missioni molto blande magari molte situazioni un po' particolari però il protagonista anche sinceramente mi sembra uno di quei protagonisti a cui non gliene frega proprio un cazzo di niente delle tizie giustamente quindi non è che ci possiamo nemmeno aspettare di svolti amorosi o cose particolari non lo so sinceramente non so bene che dirvi secondo me quindi questo è quello che vi ho detto cosa se vogliamo essere gentili quindi alla fine l'abbiamo messo in B voi l'avete messo in B tutti quanti pensi che siamo tutti quanti d'accordo prima di iniziare mettiamo oh madonna perfetto oh madonna quindi è stato un disastro è stato vai a vedere i voti ma se scendi vedi i nostri voti se scendi vedi i voti mi dice 7 però Shikori eh Shikori il maestro 3 e mezzo 3.8 2.5 ma che fa fatto Spy Classroom fa cagare quali sono quali sono i problemi sicuramente non il lato tecnico ah perché diventa una merda diventa la gestione della storia peggiore che abbia mai visto allora primi 3 episodi ti presenti ricordi che ti presentava una missione impossibile delle 7 sì sì esatto tornerete morti tutti la missione mortale al terzo episodio la vanno a fare sì la fanno la risolvono la terzo episodio a fare la missione impossibile ok infatti io pensavo pensavo che fosse una cosa che la portavano fino alla fine della stagione la missione gli altri 6-7 episodi tranne forse l'ultimo non mi ricordo però parlano di storie che avvengono prima della missione è tipo come quel telefilm che dipende da che episodio vuoi guardare tutti i spin off tutti i flashback fanno altre missioni di preparazione alla missione impossibile che poi cioè quindi per niente la missione impossibile fa cagare e tutto è incentrato sulla preparazione a sta missione quindi disastro ma una cosa più bella è che loro durante tutte queste missioni ne parlano sempre come qua dobbiamo prepararci perché rischieremo di andare a morire quando poi tu hai visto il terzo episodio e ci sono 6-7 rincoglionite contro la spia più forte dell'universo del pianeta Terra e la battono con una semplicità della Madonna prendono il cazzo e dopo 5 minuti lo battono comunque e come lo battono? in che modo? non ve lo ricordo lo battono perché lo distraggono e arriva il maestro a salvare la situazione ok ok quindi praticamente la storia non ci siamo la missione fa cagare le tipe come sono? almeno quelle almeno quelle manamusume che sarebbe grepe penso la migliore l'unica che si salva l'unica ma vogliamo parlare anche è più la protagonista lei che Lily ah cioè quindi veramente Anna Zono è peggio di manamusume è lei la protagonista è lei nell'episodio finale hanno voluto mettere un plot twist che non ha un cazzo di senso nella storia degli anime vabbè non è vero cioè questo dovrebbe vedere poi come va avanti ma tanto non gli frega un cazzo a nessuno di sto plot twist quindi è quello il problema è giusto ho fatto proprio scendere le palle quando ho visto quel personaggio e invece che ne so Klaus che ruolo ha nella serie che a me non piaceva come personaggio cosa fa? di comparsa va a fare shopping e poi pensare la maggior parte degli episodi parlano di quello che succede prima della missione il loro compito prima di fare la missione impossibile era cercare di batterlo quindi praticamente in tutto l'anime ci stanno le sette ragazze che poi diventano otto perché l'altro grande plot nel terzo episodio è che c'era un'ottava ragazza che non l'hanno mai mostrato ah hai capito però nella case sta lì dietro quindi non capisco che plot mi dovrebbe rappresentare l'ultima ah è questa qua la loli questa tizia qui non mi ricordo se mi hanno cambiato la case ok ok e niente si basa tutto su questo vabbè ok quindi è da E mi confermate anche delusione guarda è forse più delusione però non ci aspettavamo nulla di che dall'inizio più che altro io mi aspettavo qualcosa di carino no io mi aspettavo un anime da C però cioè per me non è delusione non penso che qualcuno si aspettasse ok quindi Anto dice E e da E vabbè anime da C e io la posso dare più che io alla fine e allora vabbè allora gli si mette E e via così e via così per Spy Classroom male 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 non mi aspettavo una cosa così brutta ma aspettavo magari una insufficienza prima di una lunga serie è vero è vero poi grazie grazie a Mix la cosa bella insieme della roba impossibile è che negli episodi di preparazione che ti fanno vedere allora qual è il fatto la spia è più forte dice che in realtà le ha sempre sedute d'occhio con cimici con robe quindi lui sapeva tutto di loro ok la cosa bella però è che negli episodi di preparazione loro parlano con l'ottava tipa che doveva essere l'arma segreta della terza e quindi lui tecnicamente la doveva già sapere doveva già sapere della sua esistenza ma lui non la sapeva ok beh sì questi sono quelle cose senza senso che fanno molto ridere sono usciti con la giustificazione del non si capisce solo dall'audio se siamo 7 o 8 ah però hanno provato pure a spiegarla questa cosa ma tanto ci abbiamo 8 cosci diverse quindi che ne sa lui è giusto è giusto è giusto ha totalmente senso ha totalmente senso va bene quindi stendiamo un velo pietoso su spy classroom e andiamo avanti andiamo avanti mi sa prossimo anime cosa abbiamo avuto cosa abbiamo avuto Tokyo Revengers proprio lui proprio lui l'avevamo messo in C vediamo un po' cosa abbiamo detto non è da buttare secondo me come anime ha comunque degli elementi interessanti delle situazioni particolari però ci sono anche i personaggi con i superpoteri che tirano un pugno e fanno volare le persone di 5-6 metri figli devo decidere di nuovo io devo decidere di nuovo io eh no regà mi sa che a sto giro non gli darò la B mi sa che a sto giro la B non gli darò Tokyo Revengers perché dopo una prima stagione che anche se anche se ci sarebbe da dire ci sarebbe da dire diciamo che il finale della prima stagione è stato molto figo su questo non lo metto in dubbio il finale è stato molto molto figo quindi magari i chat non si dicevano in particolare in questa stagione però regà dare ancora fiducia a Tokyo Revengers non è una cosa che mi sento di fare quindi probabilmente se ne va in C e quindi mi sa che a sto giro ci ho azzeccato nel senso a non dare fiducia a Tokyo Revengers perché ma pure generosa non è stata non è stata una stagione che meritava sicuramente fiducia meglio dal manga ragazzi no ma infatti molti l'avevano detto mi ricordo pure in chat che molti dicevano che questo arco era bello e poi alla fine no allora io non gli voglio dare la sufficienza ve lo dico perché per quanto allora gli ultimi tre episodi sono stati fighi niente da dire però nel complesso negli ultimi tre episodi ci sono nonostante erano fighi ci sono delle incongruenze delle robe strane che fanno solo che ridere e tutta la stagione che ricordiamoci si incentra su questo arco del Christmas Showdown l'arco del Natale è una puttanata clamorosa è una roba simile a Spy Classroom secondo me per come si è evoluto il tutto ovvero tutto incentrato su questo scontro con Taiju e sulla gang dei Black Dragon che poi alla fine si risolve in una puttanata clamorosa e quindi io la D gliela dò senza problemi mo metterlo insieme a Spy Classroom vi direi forse di no per il semplice fatto che no per il semplice fatto che almeno Tokyo Revengers ha avuto qualche episodio bello Spy Classroom vi dite che faceva praticamente cagare in tutto ma non l'ha mai avuto ma che facesse un cazzo di episodio bello non ce l'ha mai avuto beh allora tutto l'arco tutto l'arco di una chiesta è abbastanza brutto l'ultimo episodio è qualcosa di clamoroso con i tizi della gang che si vanno gli ultras del Francoforte a Napoli che arrivano in città spaccano tutto e la polizia si ma la polizia non esiste ma poi Takemichi non so se tu c'eri ieri live hai visto la scena in cui Takemichi corre per tornare da Shifuyu e viene placato da uno lui non vedeva niente c'era la schiera di persone lui non ha visto niente e ha corso dritto per dritto e l'hanno giustamente l'hanno placato si anche quello anche avrete una marea di incongruenze di cose strane quindi l'insufficienza se la becca al 100% ma non so se addirittura una E non so allora io gli darei D ditemi voi cosa gli dareste al massimo una D super bassa però io gli darei E ok Scemi dice E Andrea dice E poi che ne so gli altri Sirion anche io darei E però se vuoi dare D diciamo che la cosa che mi lascia sempre più perplesso è che tutte le incongruenze che ci sono sarebbero facilissime da risolvere da risolvere esatto anche la pistola dai lo sparo lo sparo di di Mikey ma perché all'autore di Tokyo Revengers gli piace proprio rendere le robe una merda gli piace proprio fare le robe ambigue strane senza senso stupide infatti secondo me l'autore ci prende per il culo è palese è tutto un prank ma alla fine dell'anime dirà vi ho trollato tutti e beh siamo lì è così che succede vedremo comunque dai non siamo troppo cattivi diamogli D a Tokyo Revengers non siamo troppo cattivi che bellezza che simpaticone la prossima stagione avrà un'evoluzione pazzesca sì ma ovvio che sta scherzando però a parte tutto a parte tutto comunque giusto per chiarire voi avete letto il manga ma la prossima stagione effettivamente è meglio di questa cioè questa qua no no ma forse è la peggiore aspetta aspetta vuoi sapere delle cose no non nello specifico non nello specifico allora voglio solamente sapere il cattivo è meglio o no di Taiju il cattivo no come no no è peggio di Taiju sì vabbè ridiamo ridiamo vabbè vabbè andiamo avanti che è meglio andiamo avanti che è meglio non vorrei dire la parola con andiamo avanti andiamo avanti che è meglio andagli di andagli di rispondo chissà chi ha detto chissà chi ha detto ok chissà chi ha detto non sei pronto non sono pronto non vedo l'ora non vedo l'ora madonna neanch'io però allora prossimo anime Ayakashi Triangle vabbè questo anche non ne parliamo l'avevamo messo in D secondo me molto cattivi siete stati per un H per un H almeno la sofficienza gliela dovevamo dà e vabbè tanto in totale quanti episodi sono usciti 5 episodi di Ayakashi non so voi l'avete seguito era carino ma secondo me è un H che funziona tranquillamente io mi aspettavo una C forse pure B per Ayakashi però il manga è levato per i disegni del maestro il maestro è insuperabile eh vabbè va bene va bene va bene quindi comunque ci sta magari da recuperare se piace l'H in generale non è il classico H c'è anche la trama e c'è l'H buono buono allora in caso magari lo recupereremo insieme a Nera Automata quando riuscirà a luglio un H censurato non è un H però mi pare che è uscita pure la versione non censurata no allora che merda allora che merda doveva uscire però poi è stato rimandato l'anime mi sa allora boh speriamo che uscirà speriamo che uscirà la versione non censurata sì l'anno prossimo prossimo anim prossimo anim abbiamo 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 oh maogau in un momento si aggiunge alla si aggiunge alla coda degli anime rimandati quindi anche di questo vabbè io allora dopo il terzo episodio mi sono rifiutato di continuarlo ho una sola domanda migliora oppure rimane più o meno simile che poi non so se voi avevate non so se voi avevate comunque una visione diversa della mia però cambia io sono l'unico che non ci ha capito un cazzo dall'inizio alla fine penso che sei l'unico però c'era secondo me qualche episodio tipo 4 o 5 sì forse erano sicuramente erano sicuramente migliori dai primi tre ok quindi è leggermente migliorato però è rimasto più o meno sempre su quel livello là come direi comunque sufficiente però è sufficiente sì però è come se ci fosse un distacco enorme dalla prima alla seconda stagione quello l'ho avvertito tantissimo mi è sembrato proprio molto molto più strano rispetto alla prima stagione io sono uno di quelli che penso io sono uno di quelli che penso per me doveva l'anime doveva finire la prima stagione pure con il finale che aveva avuto comunque cioè non so la novel come va avanti infatti io penso che lo metterei in delusione sì io penso che lo metterei in delusione però ovviamente aspettiamo che esce tutto per giudicare ah è vero c'è pure un altro cur quindi avrà 24 episodi pensate staremo a vedere staremo a vedere prossimo anime cosa abbiamo avuto l'avevamo messo in A di Monking Academy in A quindi avevi delusione qua ci sarebbe pensa che ro sì sì delusione qua ci sarebbe poi prossimo anime oh Trigan Stampido sentiamo cosa in realtà qua non è che serve troppo sentire perché l'avevamo messo in S io mi pare che avevo detto che non lo so forse gli avrei voluto dare una A però alla fine voi avete votato S come si è evoluto sto Trigan effettivamente è bello molto bene addio buono buono uno dei migliori stagionali ah addirittura uno dei migliori tra l'altro molto basso però sta su Analyst eh la situazione non è uscito nel 1900 io posso dire che se visivamente per me è stato l'anima è più bello che da guardare basta che ti c'è vinto alla CGI di Orange questa qua è stata una CGI della Madonna poi la trama la trama poi su una parte la seconda parte bellissima migliora da che parte in poi diventa figo cioè da metà in poi forse anche 5-6 ci sono i episodi singoli che non sono male dicono anche colonne sonore stratosferiche sì le colonne mamma mia il combattimento dell'ultimo episodio è qualcosa di mamma mia diretto in una maniera ma d'altro voi avevate visto la prima la prima la stagione originale no no penso che siamo tutti blind qua ok lato tecnico mostruoso quindi buono buono non me la spieghi io sinceramente dopo i primi tre episodi ero molto quasi convinto che sarebbe stata una delusione andando avanti perché non so perché ogni episodio mi sembrava che ci avesse qualcosa che scricchia cioè sentivo un po' di buzza di merda parliamoci chiaro sentivo quella roba che mi faceva dire ma non lo so questo qua secondo me diventa una cacata diventa però alla fine sono contento che non è stato così alla fine il terzo funziona quasi da fine di prologo di trial perché poi iniziano a fare iniziano il viaggio quindi diciamo inizia la storia reale quello che quindi dove lo mettereste? S si conferma la S ah la S senza problemi si conferma vai anche in S alta dal episodio 5 6 inizia a ingranare l'unico difetto forse i personaggi secondari si concentra molto sul rapporto tra i due fratelli è tra pace si concentra molto è molto protagonista centrica capito capito he do the things poi alla fine he do the things buono buono comunque dai sono contento magari magari lo recupererò non lo so però vedremo vedremo non credo neanche io però vedremo vedremo prossimo anime abbiamo 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 oh Tomo-chan is a girl questo mi sa che l'avete trattato un po' male sentiamo cosa abbiamo detto questo è un bg secondario forse giusto questa tizia è un po' questa tizia è una cogliona non lo so già solo di design dai questa tizia è una cogliona questa tizia è una cogliona Carol una cogliona una cogliona ma che design c'hai ma che cosa sei orribile forse giusto lei forse giusto lei si salva l'amica con i capelli neri qua che ci potrebbe stare però mi pare anche che sono l'altro ragazzo che si è visto mi piacevano molti personaggi a primo impatto cosa io dirò ma perché la prima volta ma essendo che li vedo in live per la prima volta no 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 B non gliela do assolutamente no C in realtà pensavo di dargli C pensavo di dargli C anche se dopo il discorso che avevo fatto mi è quasi venuta voglia di dargli un'insufficienza però la C secondo me ci può stare però è proprio il massimo che gli si può dare B sicuramente no B sicuramente no per Tomo-chan ok ero molto partito cattivo con Tomo-chan mi sembrava una mezza mi sembrava una mezza cagata voi avevate votato C barra B in realtà molti dicevano C molti in chat dicevano C quindi vabbè secondo me era anche colpo del trailer che non si capiva effettivamente infatti mi ricordo che il trailer non mi era piaciuto quasi per niente ma più che altro non si può vedere se lui era coglione oppure se lui lo faceva apposta che non so perché era una donna il protagonista sembrava coglione e i personaggi secondari sembravano uno peggio dell'altro tranne la protagonista e invece ditemi voi perché non l'ho seguito i personaggi funzionano in maniera ottima tutte le relazioni allora forse verso la fine un pochettino rasciatello però cioè ci sta alla fine Andre dice è la commedia della stagione può essere un esempio per le commedie demenziali con personaggi amabili yes mi trovo abbastanza d'accordo può essere che così sì sicuramente meglio dell'altra commedia però sì è un risvolto il protagonista finalmente non è il solito stupido in realtà questa pure è molto buona come cosa mi è piaciuta pure Tom ottimo protagonista ma a livello di relazione tra loro due penso che si sblocca la situazione immagino dato che finisci in questa stagione è finito tutto il 15 episodi infatti questo qua secondo me è un esempio perfetto di come magari è meglio far finire una storia prima che protrarla per tre stagioni all'infinito in cui non succede un cazzo quindi poi il lato comedy pure è fatto molto bene cioè a me è piaciuto troppo Tom anche come si comporta cioè è il Tom Boy per eccellenza buono buono quindi dove la mettereste? almeno A sì almeno A A alta A più meglio quindi A sopra Fomento S S è un po' troppo però no S è troppo anche qualitativamente l'ha fatto parecchio bene lo studio del non si può dire ci sta non è scontato che faccia ridere e sorridere una romcom visto che di solito le battute sono sempre banali ma lo sapete a me la scena che è piaciuta di più la scena che è piaciuta di più di tutto di tutto coso di tutto Tomo-chan è Tomo-chan is a girl song vedo un po' se la trovo mi è piaciuta un botto la parte in cui canta Neko un tata Neko un tata carinissima mi è capitata su YouTube per sbaglio è bellissima qua lei dai guarda ma te è carina bella bella anche questa non penso me la recupererò però sono contento che è stato carino bella 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 quindi dicono rivelazione addirittura però se la consentiamo da cioè alla fine non è stata una cosa da S magari se gli davamo S forse pure pure rivelazione però sì forse più da io aspettavo mi sarebbe piaciuto quindi non gli darei rivelazione però se è finito in C da C a da potrebbe anche starci il tuo personaggio secondario migliore della chi è? chi è? la nera ah lei capelli neri no infatti no rivelazione potrebbe pure starci aspettiamo gli altri e decidiamo dopo e non lo so regà quindi voi che dite? pensate pure a rivelazione per Tomo-chan? secondo me è meglio ai basta rivelazione è santa G no? che mi va bene pure rivelazione ma non lo so se fare un sondaggino basta vabbè da C a da C a no infatti infatti il salto deve esserci quando c'è proprio tipo tre tre cose di distacco da C ad S in quel caso sì però da C ad A no no rimaniamo così almeno tre categorie di differenze ci devono stare sì sì va bene va bene prossimo anime l'ultimo della guida è stato la mia vita come il cane di Inukai che ovviamente è stato messo in SS perché è giusto così perché è giusto così la risata la burla sentiamo cosa avevamo detto sinceramente pure io sono arrivato al punto in cui credo che i giapponesi non sappiano più cosa inventarsi anche se comunque per certi versi sono delle trame come possiamo definirle originali non lo so perché non ho mai visto comunque una roba del genere e vabbè quindi sì un po' di zofilia ogni tanto ce la vogliamo mettere pure negli anime mi sa che c'è molta zofilia dove lo posizioniamo in Inukai Dog forse è leggermente irrealistico perché non è possibile non credo che ci siano padrone o persone che fanno certe cose con il cane però vabbè cerchiamo di sorvolare questa cosa però il fatto anche qual è cosa mai potrà succedere in quest'anime nel senso l'istituzione anche che abbiamo visto nel trailer ma nel senso la tizia che si struscia sul tavolino cosa sta facendo questa? non è niente questa tizia in questo momento cosa fa? questa è una bella domanda questa è una bella domanda non è niente la tizia che si struscia sul tavolino ma quindi io ho visto certe clip in cui a me sembra quasi che lei la protagonista si voglia far scopare dal cane è così o no? scopare ingroppare cioè in cui si mette si fa il cosplay da gatto e tipo fa delle robe assurde da cane da cane no da gatto pure la prossima volta che ci sarà una votazione per un ecce un po' più spinto si metterà un bel sondaggio dove bisognerà specificare proprio il nick su twitch il primo che mette più di B verrà liquidato da questa chat va bene quindi diciamo che non si merita la SS questo l'abbiamo capito ma quindi voi l'avete visto tutto in Ucai ma a che livelli di perversione arriva? a livelli di perversione non pensavo sia meglio che non parlo perché lascio il libero arbitrio e basta tu sei guarda poi dicono anche tecnicamente abbastanza osceno vabbè vabbè quindi per dire non si salva niente non si salva perfetto allora sappiamo dove vede uno degli anime magari le waifu sono carine c'è qualcosa di positivo un'opera no la opening fa cagare hanno bella mercanzia animata male sotto la media non lo sbocco superano però sotto la media cioè ho capito è una bella mercanzia animato pure male dai però cucita è carino vedete bene è carino cucita dai almeno questo è tutto un'anime che ha della sua visuale quindi tu non lo vedi mai ah è vero tette aereodinamiche da 10 è vero c'avevano le tette aereoplano diciamo dai va bene ok dai andiamo con la E e via andiamo con la E e andiamo avanti e andiamo avanti eh sì era uscito pure qualcosa sulle doppiatrici che doppiavano i Nukai ah era la scena dello spigolo sì sì praticamente in una in un'intervista mi pare o a un evento sui Nukai hanno fatto vedere una scena in cui c'era una delle ragazze di Nukai quella là che si che si strusciava sullo spigolo e c'era la doppiatrice proprio davanti e boh si è sentita un po' a disagio nel vedere ridoppiare quella scena ho abbassato ulteriormente il voto vabbè no non ho visto la clip ho visto che l'avete mandata ma non l'ho vista la clip che roba che roba andiamo avanti andiamo avanti ora dai top 10 anime più attesi passiamo a tutti gli altri tutti gli altri anime ovvero cerchiamo inverno i migliori e i peggiori non è questo si è questo no è no questo è 2022 2023 si a tutti gli anime in uscita nell'inverno 2023 facciamo tutti gli altri abbiamo Bungo Stereidogs l'avevamo messo in S io non l'ho visto quindi qua parlate voi in grande recupero allora una bella serie Bungo questa quarta è meglio della terza meglio della prima si riprende rispetto della terza a me non era piaciuta questa quarta quasi in bello stile non ci sta più che altro da affinamento dello spazio e agli altri personaggi secondari e non è più Dazai centrica oppure Azushi Akutagawa centrica che spaiscono quasi ma naturalmente in secondo piano per dare più spazio agli altri personaggi si raggiunge quasi la seconda stagione non è al livello però della seconda che ancora rimane il picco massimo quindi la seconda è la migliore e questa dopo la seconda è la migliore sono tutte e due da S quindi questa una quarta stagione è pure da S comunque i chat confermano con te perché dicono da S quindi ok buono tra l'altro questa qua è la quinta ma questa è la quarta ma questa è la quarta la quinta è l'annunciata per luglio che però in realtà cioè pure per come finisce questa quarta stagione sa più di secondo core che è la quinta stagione quella che sta a luglio è però annunciata come seconda stagione l'unico problema di questa parte è che alla fine si sente proprio che c'è un certo rush perché altrimenti si sarebbe potuto andare oltre però capito però buono buono direi minimo S non accetto di meno vabbè allora ci sta ci sta è stata bella la seconda la sto guardando ora molto bella va bene ci può stare poi prossimo anime cosa avevamo fatto dopo Bungo Bofuri seconda stagione I don't want to get hurt so I'll max out my defense chi l'ha visto Bofuri ecco io ha avuto un po' di rimandi mi è piaciuto bene ah è finito o no non ho capito mancano gli ultimi due episodi vabbè se sono solo due episodi secondo me possiamo arrancarlo comunque ha cagato il cazzo poi ci si mette dentro pure la cosa dei rimandi niente di che ripetitivo le gag dicono anche che ci sta della CGI orribile ah beh un episodio ma la qualità non può dire niente però si diciamo che tutta la stagione Maple che ammazza boss e basta quindi mi verrebbe da dire un'insufficienza quindi sì la metterà in B magari no però i tendenti alla C C ma io l'avrei messo almeno in C cioè non per dire vabbè non l'avrei messo in B ma perché a me generalmente piace Bofuri però effettivamente questa stagione hanno sono andati un po' troppo sia con il livellaggio cioè hanno aggiunto i vari ogni totte ci sta l'aggiornamento che aggiungi il livello del gioco in cui giocano e mi sembravano che stavano andando un po' troppo veloci hanno aggiunto un sacco di livelli un sacco di eventi a cui non hanno adotto la giusta la giusta importanza il giusto approfondimento come era nella prima stagione ok quindi ovviamente in chat pure dicono forse C di troppo cattivo non lo so non lo so quindi non lo so Alien dice C mentre voi altri che l'avete visto Shen, V, D chi altro? no posso dire proprio io C guarda vabbè allora dai mettiamolo in cibo anche se dicevano di giusto risicata risicata a metà dovrebbe stare tra C e D sì però comunque è molto meglio che Revengers ok almeno quello almeno quello poi prossimo anime che cosa abbiamo? abbiamo oddio questo di Spectre non ne ho proprio sentito parlare in Spectre cioè non me ne avete mai parlato di stagione se lo incula nessuno hai capito ma no ma vi giuro penso che in tre mesi non ho mai sentito nominare qualcuno che mi diceva qualcuno che mi diceva è bella la seconda stagione sto seguendo in Spectre nessuno me ne ha mai parlato qualcuno l'ha visto? io lo sbocco la noia più totale lentissimo noiosissimo lo sbocco no lo sbocco no cioè a me sinceramente come ho detto mi è piaciuto un fottio l'arco della Yukion mille per degli altri archi io sinceramente come minimo almeno una B nel complesso è come la prima stagione forse un pochettino c'è stato l'ultimo arco che l'ultimo arco gli ultimi due o tre episodi è un po' ambigui aspetta quale era quello dell'hotel era? quello del tizio della ah si dell'assassino si si ho capito che è che in chat dicono più C però voi volete dare B quindi posso capire posso capire abbastanza bene se ha noia però c'è veramente cazzitello tanti spigoni però secondo me come misteri non mi ha fatto male gli episodi due o tre e quattro sono molto belli ma il resto la noia l'ultimo app fa davvero schifo un punto molto forte di Kyukusiri secondo me è il fatto che non puoi trovare un buco di trama perché con tutte le spiegazioni che danno ad ogni minimo dettaglio la cosa che succede è impossibile trovare un buco di trama su quello ha ragione non è non è assolutamente un brutale però si annoia ci può stare assolutamente vabbè allora comunque voi di te B quindi lo mettiamo in B sì ci può stare anche se in chat erano partiti molto più cattivi è tutto uno spiegare infatti sono sicuro che forse manco a me piacerebbe però vabbè Kyukusiri è un tipo di anime molto lento e riflessivo in cui si deve leggere bene ciò che dicono almeno hanno evitato un arco lungo come è stato per quello di Nanase d'Acciaio nella prima stagione comunque guarda non me l'aspettavo che era così sinceramente perché avevo pure magari intenzione stavo valutando se recuperarmelo però se mi dite così non credo che lo farò non penso mi piacerà così tanto quell'arco di coglioni per te ma era veramente lungo madonna poi prossimo anime abbiamo oh eccoci qua D'Angel Next Door Spoils Me Rotten questo ho visto i primi sei episodi quindi posso dirvi effettivamente cosa ne penso solamente dei primi sei episodi allora lo devo finire Caruccio D'Angel Next Door nel senso dal primo episodio mi aspettavo una roba molto non lo so non mi aveva fatto una buona impressione nel primo episodio continuando lo posso dirvi effettivamente meglio meglio di come si è rappresentato i protagonisti ci stanno la pecca più grande secondo me è la qualità generale non mi piace per niente Project Nine male male come studio non mi è piaciuto non capisco l'unica cosa che già mi inizia a stonare un po' è la loro relazione che è ambigua a livelli clamorosi nel senso è dal primo episodio dal secondo anzi episodio che fanno tutto insieme passano le vacanze insieme San Valentino si fanno i regali dormono insieme quasi cucina tutti i giorni per lui e tutto quanto e ancora siamo arrivati a un punto in cui no ma siamo solo amici no ma perché non sia mai non sia mai e siamo al sesto episodio quindi io mi chiedo ma andando avanti questa cosa viene un pochino sbloccata no non proprio e allora già questo è un piccolo problemino io la loro relazione l'ho odiata cioè arrivato fino all'episodio del 6-7 l'ho amata piaciuta tanto passato l'episodio del 6-7 l'ho odiata scopano in amicizia sì siamo solo amici è una cosa troppo irrealistica ma in realtà te lo dico già ma in realtà anche nel sesto episodio si inizia a sentire che è un pochino forzata la cosa ma perché glielo chiedono pure nel senso succedono ma pure conosce i genitori di lui gli amici che mi pare vengono invitati a casa per passare il capodanno insieme tutte situazioni è molto che già lì le vedevo e dicevo vabbè un po' particolare poi sarò sincero allora lei ok il protagonista non so perché ok che non vedo un episodio da un po' di settimane lo trovo strano per certi versi il modo in cui si comporta lo trovo strano lui un po' è strano lei eh il suo passato non l'hai vista il passato di lei ah di lui no no non l'ho visto non l'ho visto non l'ho visto quindi io posso solamente dirvi che lei ok lui per il modo in cui si comporta e le frasi proprio che dice in certi contesti ogni tanto avverto delle cioè lo vedo e dicevo strano un po' cioè le cose sembra che c'è qualcosa fuori posto nel protagonista questa è l'impressione che mi ha dato anche se non so bene cosa dirvi me lo sarei fatto andare bene se avessi avuto una backstory un passato decente ma è ridicolo cioè vedere lui come si è ridotto in questo stato dopo aver visto quella backstory lì è ridicolo cosa te l'ha successo è stato rifiutato da una tipa l'hanno bullizzato in prima elementare la sua backstory è ridotto uno che non fa mai un cazzo nella vita che praticamente è stato costretto ad essere aiutato è che gli amici gli scroccavano i soldi alle medie eh gli amici gli scroccavano i soldi alle medie sì ma in che senso che lo bullizzavano e gli rubavano i soldi no no non gli rubavano gli scroccavano i soldi gli chiedevano mi dai mi dai mille yen per comprare una cosa e lui gli dava questo è passato tragico bene ok beh allora molto divertente molto sì molto cioè immagino il modo in cui hanno fatto vedere questa cosa però avrebbe avuto più senso se facessero se avessero fatto vedere una cosa del tipo tutti gli amici che ho avuto quando ero piccolo in realtà non mi volevano veramente bene ma mi usavano mi sfruttavano per vari motivi oltre per i soldi però immagino avranno fatto vedere tipo una mezza scenetta del cazzo in cui lui gli presta mille yen finisce la e finisce la e ovviamente coloro che gli sparlavano alle spalle sono toccato da questo passato SS esatto ma è clamoroso comunque no il problema secondo me è la loro relazione cioè quindi problema relazione e anche questa roba del protagonista che effettivamente è un po' bruttino e anche il lato tecnico quindi considerando queste cose mi verrebbe quasi da pensare una B non una A io vorrei tenere conto che non è che ogni anime con un ragazzo e ragazza devono sempre finire insieme cioè ci può essere anche la relazione ragazzo e ragazza e punto non ci può fare però qua vanno un po' oltre qua vanno un po' oltre loro vivono insieme non in questo cioè in generale ci può stare anche l'anime potrebbero farlo però adesso non l'hanno mai fatto hanno voluto marciare su questa cosa ma io in generale cioè non è vero quando dicono eh ma tanto è così per tutti gli anime no perché tutti gli anime romantici non è vero perché in tutti gli anime non ci sono tantissime vivono insieme senza stare insieme e questa è la roba inconcepibile e che hero vabbè hero stendiamo un velo pietoso quindi ora ripeto per le cose che mi avete detto non mi sentirei non mi sentirei magari non mi sentirei di dargli C però una B ci può stare dai progetto 9 io c'ho come sti gatti c'ho un po' di e poi che dite quindi diciamo perché l'ho trovato carino per alcune scene sì però alla fine le cose è frustrante le cose le cose che ha detto tanto sono d'accordo però come in chat dicono B esattamente come non si scrive un rapporto per un anime romance me lo sono riuscito a credere abbastanza dai va bene comunque diciamo che Anto direbbe C gli altri più o meno B la chat dice B mettiamolo in B per rispondere a Pua paresemente scopano in segreto è vero per rispondere a Pua quello non c'entra il fatto è che questi due paresemente si piacciono già da mesi vivendo insieme e continuano questa situazione per altri per non so altro quanto tempo passando praticamente tutta la giornata insieme a fare sempre le stesse interazioni ovvero una coccola di qua e un'altra coccola di là una scopatina veloce e ti accarizzo la guancia ti accarizzo la guancia ti accarizzo la coscia e ti faccio i grattini però non stanno insieme è giusto è giusto e a parte no comunque chiedono se l'avete concluso l'avete concluso sì 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 ah no è perché sono detto perché prima abbiamo detto che non si è sbloccata la relazione e quelli che sono incazzati ah quindi si è sbloccata sì chissà gli ultimi dieci minuti quindi non si sa semmai in una seconda stagione no no si è sbloccata la situazione però diciamo ah ok io non volevo scogliare però come si è sbloccata più avanti no si è sbloccata la fine quando ormai dovevi finire ma quindi non ho capito ma è finito finito o continua la storia no continua ah questo avrà sette stagioni dubito io mi vorrei leggere la novel perché già volevo farlo da prima cioè poi la devono fare con questa qualità meglio che vabbè finiscono comunque dai va bene andiamo avanti mi aspettavo forse mi aspettavo addirittura una A perché magari credevo ne parlavano abbastanza bene in generale quindi pensavo che era pure meglio dico sì ma vabbè lo recupererò perché tanto devo vedere solo sei episodi quindi io ti sei rimasto male perché cioè la prima parte per me era da A pulita me l'è piaciuta tantissimo però la seconda era troppo lunga oh Dammaci Dammaci 4 gli abbiamo messo B a Dammaci una bella B che vabbè io non l'ho visto quindi vabbè anche qua tanto ne abbiamo in realtà già parlato abbastanza pure della prima parte di Dammaci mi limito a chiedervi questa seconda parte della quarta stagione è ancora meglio o stiamo lì è la migliore parte di Dammaci di tutto Dammaci di tutto Dammaci madonna cioè diventa tipo incredibile diventa quindi ma è una cosa comunque sta sta nei dungeon sta avviene tutto nei dungeon sì sì allora già solo per questa cosa mi piacerà allora no allora è la dimostrazione palese di come l'autore sappia scrivere abbastanza bene le parti in cui deve non ci sono esseri umani le parti in cui devono fare robe nel dungeon che effettivamente lei sa scrivere è molto bravo in questo quando devi fare le parti con con esseri umani coinvolti come ville in altre cazzate esce fuori se hai visto quella seconda stagione se hai visto con parti della terza non è capace proprio però quando devi scrivere le parti del dungeon ce la fa cioè questa seconda parte della quarta stagione è fatta molto bene penso che tra tutte le robe che ci siano sui dungeon è una di quelle che mi sono piaciuto di più mazza mazza allora figo senti effettivamente il pericolo di questo posto oh bello è proprio quello che mi piace infatti guarda lo recupererò al cento per cento l'ambiente vengono proprio espressi molto bene le condizioni in cui si trovano i protagonisti ma che poi tra l'altro bello non era OP cioè si però in una situazione diciamo abbastanza catastrofica ok ok allora si lo recupererò molto volentieri da come ne parlate mi sembra quasi da S va anche rivelazione però vabbè oddio però rivelazione non lo so nel senso già la prima parte penso che aveva fatto capire più o meno cosa quindi dove lo mettereste io gli ho messo 8 e mezzo quindi S6 io forse sono più per il primo della A però cioè se vai in S non c'ho niente contro mi è piaciuta questa parte S gliela do ok quindi Shen vi dice S anche Alin mi sa io ho visto solo metà però anche io andrei per la S cioè sono sicuro che lo metterei in S Alise per l'altro si stacca pure dalle altre stagioni perché effettivamente pure cioè la tipa dicono tutti S mettiamolo in S la tipa che protagonista insieme a Bella è molto più approfondita rispetto al solito mia moglie parliamo di l'elfo l'elfo è molto più approfondita mi avete guarda dopo io da Maci lo davo quasi per spacciato nel senso la prima parte della quarta da dove sta dungeon dungeon lo davo lo davo quasi per spacciato ah non ho capito hai detto la prima parte della quarta si la prima parte della quarta ovviamente è C barra D ah quindi quasi pure insufficiente la prima parte quasi però si salva per la prima parte la seconda parte della prima parte l'altro a livello tecnico come è fatto invece perché che ne so nell'akivismo la vedo una roba un po' bruttina forse è fatto molto bene cioè il primo episodio c'è questo combattimento con il drago lì non mi ricordo giacanotto infatti però aspetta aspetta la domanda effettivamente che fanno in chat conviene recuperare quattro stagioni per vedere questa parte non te lo saprei dire in una settimana non te lo saprei dire perché perché allora voi mi dite la prima parte di questa quarta stagione non è niente di che quindi uniamo prima parte della quarta stagione niente di che con seconda stagione una merda totale con terza stagione più o meno discutibile discutibile non era non era niente di che pure quella la prima stagione onesta anche quella non era brutta era buona io ti direi di no a meno che veramente questa parte non è incredibile che la vedrò io ti direi di no perché alla fine se ci pensi su quattro stagioni almeno tre stagioni sono niente di che quindi diciamo che di cui una è una merda la seconda è una merda dipende pure da come sei disposto predisposto per questo tipo di opere cioè io sinceramente non pensavo che me li sarei riusciti ad assorbire però invece diciamo tolta la seconda stagione che è catastrofica alla fine no ma guarda Official Power se vuoi provare vuoi pure vedere la prima la prima non è male quindi se vedi la prima e ti piace a tal punto puoi continuare ma per me per una sola stagione inferiore cioè molto sotto la media molto brutta ma tanto per me basta vedere la prima se capisci la prima che non ti piace no tu ti vedi la prima se la prima non ti fa dire è figo ci può stare capisci già che non ha senso continuarlo perché la seconda è dieci volte peggio quindi la seconda è proprio un tracollo se non ti piace la seconda non la vedrai mai madonna quindi vabbè insomma dipende da voi però lo vedrò comunque da Machi 4 perché se mi dite che è così figo ha quelle giuste ambientazioni cupe e situazioni pericolose mi piace mi piace c'è di peggio della seconda stagione non è la la roba più brutta in circolazione no assolutamente no assolutamente no Kubo Kubo non mi lascerà invisibile qualcuno l'ha visto? non si può rancare anche lui oh ma tutti proprio l'ha colpito tutti il covid mi sa che li abbiamo finiti però si dovrebbero essere finiti oh in totale porca puttana Nier Ayakashi Maokaguin e Kubo si si li abbiamo finiti quelli rimangono ma dicono A ma ZA ah altino Kubo ah l'avevamo messo in C l'avevamo messo vabbè siete dei pezzi di merda siete dei pezzi di merda che non vi piacciono sì gli slice of of sleep eccolo qua bisognava dirlo slice of sleep meglio il pezzo di dormita meglio il pezzo di dormita che le botte 24H però no pensavo questo qua fosse un vero slice of sleep ovvero proprio una roba noiosa invece a quanto pare no quindi ma non so se posso fare il paragone giusto perché mi ricordo la giotta cosa ne pensa di quest'anno poi abbiamo il ragazzo di ghiaccio e la sua collega femmina cool l'avevamo messo in B sulla stessa falsariglia però peggio l'avevamo messo in B questo è sulla falsariglia ma peggio come anche se qui personaggi qua principalmente la storia mi è piaciuta i personaggi sono sono un po' più carini quelli secondari non incredibilmente però comunque portarci vostra non me l'avete manco fatto vedere il primo episodio questo tutti a votare no 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 non lo vediamo non lo vediamo io lo so io lo volevo vedere con le gran lume particolarmente belle sarò sincero ma guarda è meglio che non te l'abbiamo fatto vedere questa è una palla i protagonisti sono adulti che si comportano da teenager ma che cazzo no a parte che non è allora di base non è proprio dipende quanto si comportano da teenager però alla fine quanti anni hanno questi 30 anni che ne so 25 avranno iniziato da poco a lavorare e allora sti cazzi se si comportano se hanno 21 anni 23 anni quello che è ci può stare che si comportano da teenager poco cambia è una cosa sweet dai e quindi B C quindi B B io vorrei leggere il commento di Anna's Fire invece ci guardiamo Ningenfushi che è Ice Guy e ho detto tutto è infatti è infatti allora hanno 20 anni allora va bene mettiamolo in B mettiamolo in B di Ice Guy ci sta ci sta poi prossimo anime By The Grace of Gods vabbè questo non l'avete visto spero l'hai visto l'avevamo messo in E se lo merita la E è giù meglio della prima stagione magari fa cagare più che quella ma no perché l'hai visto perché ho la politica di non droppare gli anime ah cioè quindi dopo la prima stagione sei obbligato a continuare con la seconda è perché io lo smartphone secondo te adesso non me lo vedo vabbè io pure me lo vedo lo smartphone per forza ma ha visto è Shinkanumi non me lo vedo che è l'anime più brutto che abbiamo mai visto quindi Ningen Fushin se fanno una seconda stagione te lo vedi no eh sì no ma smetti la paliasso eh sì quello no purtroppo ma infatti è una bella politica quella di non droppare addirittura continuare gli anime dopo stagione per stagione è anche un po' masochista come cosa io non dico che non si deve droppare assolutamente sì io lo pensavo bellissimo però la pensavo pure io così poi ho scoperto Jai Sama allora aspetta Jai Sama non ha una seconda stagione almeno quello te lo sei risparmiato beh sì no però ha vinto l'episodio oh oh grazie Dragonheart per i 13 sì per i 13 per il raid Dragon Cuore Dragon Cuore 2.8.7 e stavo facendo la tier list degli anime della stagione invernale piacere tanto spero che ti seguo ti seguo sì sì ti seguo e comunque continuiamo continuiamo per adesso la tier list è questa degli anime della stagione invernale ho visto lì andrei io cadavere io l'ho ancora visto con molta calma ah il frutto dell'evoluzione dite madonna la seconda stagione ma quindi pure questo è continuato Shenvi no questo lo dobbiamo recuperare nei prossimi giorni insieme a tanto F da Antonello ok questo pure l'avevamo messo in E però potrebbe essere cioè non l'avete visto quindi magari si riprenderà in qualche modo ma cosa si riprende fai fatica solo a guardare ma penso proprio ma come ma tu rifiuti la stagione la ship me l'hanno è vero è vero è la ship che poi me l'hanno rovinata nella seconda meno di E forse servirebbe la F addirittura qua è un arm di merda questo che ti deve rovinare qua veramente fai fatica solo a guardare due minuti ma non so magari magari a questo punto potrei pure mettere la F però non so se poi siano troppe categorie considero che quelli nevano eh quelli nevano infatti no no vabbè lasciamola se riesce a guardarti cinque minuti sto anime non ti potrai mai più sparare in testa se in meno di cinque minuti ti spari in testa più si va avanti più peggiora peggio della prima dicono addirittura meglio di questo meglio di questo non volevo sentire perfetto non vedo l'ora e allora va così se ne va in in coso e poi guardate cosa arriva guardate Onimai I'm now your sister l'avevamo messo in rivelazione sentiamo cosa avevamo detto su Onimai dove lo mettiamo mi ispira pochissimo se non per lo studio no infatti più che altro mi ispira per studio Bind e per il fatto che in realtà lo stile non è malaccio quindi non gli daremo insufficienza dai sì il problema è Rudeo Stimushoku penso che eravamo andati molto cattivi di una ragazza più piccolo rivelazione rivelazione se siete pazzi ma seriamente lo volete mettere in rivelazione la gente si sta sta già venendo bannata per le reaction al primo episodio insomma eh infatti allora io voglio dire una cosa su Onimai allora io non mi ricordavo che pensavo che l'avevo messo in C posso dirvi a me sta piacendo molto non l'ho finito mi mancano gli ultimi due episodi però sta piacendo proprio tanto è fatto di Cristo studio Bind clamoroso bellissimo proprio una qualità di animazioni e disegni eccelsa veramente eccelsa la storia mi piace la protagonista è carinissima ma Iro è veramente la protagonista tra molte virgolette la protagonista è carinissima io credo credo veramente che questo potrebbe essere considerato una rivelazione quasi quasi concordo pienamente perché non me lo sarei io ve l'ho detto pensavo una roba da C cioè mi aspettavo una roba da come ho detto appunto nella guida una cazzata invece e invece posso dirvi che è molto molto figo ma non so come finisce però anche per i miei standard che a me di solito queste cose non piacciono posso dirvi era è un cute girl doing cute things però fatto di Cristo esatto esatto è un cute girl doing cute things fatto di Cristo con però anche una protagonista molto carina molto carina unico secondo me problema unico problema secondo me di Onimai se dipende in realtà da che angolazione la si vuole vedere questa cosa secondo me tende tende a sessualizzare un po' troppo quelle che a tutti gli effetti sono delle ragazzine di dieci anni no io non ve lo nego allora magari per certe persone potrà pure piacere questa cosa però secondo me in certi momenti anche un po' too much cioè io nel primo episodio quando facevano vedere le scene in cui stavano in cui la protagonista stava in bagno e si lavava e tutto quanto non lo so mi sentivo un po' a disagio anche in certe cose era un po' tanto che facevano vedere questa tizia tutta nuda appunto un po' troppo quindi questo ripeto è una cosa che alla fine non è che la considererei per forza una cosa negativa al cento per cento però forse un po' troppa sessualizzazione a me l'unica cosa che non mi è piaciuta mi è piaciuto quasi tutto no però in ucai non so cioè il fatto sai qual è la sessualizzazione di ragazze di 14-15 anni la posso capire ancora a me non dà fastidio personalmente cosa sempre inquadriamo in un discorso personale perché in ucai non hanno 12 anni qua quindi quando parliamo di diceali è un conto però quando parliamo di ragazzine delle medie ma anche qua non sono ragazzine delle medie che magari dici vabbè sembra che c'hanno comunque 15 anni si vede proprio che sono un po' piccole piccole quindi questo per certi versi più che altro la protagonista cioè la protagonista lo fa vedere molto è un po' un po' in qualche modo doveva fare qualcosa che può guadagnare vabbè esatto quello è vero mi ricordo la ending ai movimenti più fluide che io abbia mai visto no ma opening ending sono clamorose le ho viste quasi sempre durante gli episodi perché sono bellissime e quindi secondo me come ha detto proprio Anto questo è un ragazze carine che fanno cose carine quindi una storiella banale cioè banale in realtà comunque c'è la roba di lui che diventa una ragazza che lo rende abbastanza figo eh lo rende figo a me lo rende figo a me lo rende figo perché il primo episodio mi è piaciuto tutto tutto tranne questo il primo episodio il primo episodio faceva intendere secondo me anche un approccio a questa trasformazione più in certi ratti un po' più seria anche diciamo qualche conflitto da parte sua su questa sua crescita e invece non viene mai più toccata in tutta la serie cioè nel senso tu ti aspettavi una roba un po' più un approccio un po' più serio da questo punto di vista però questa cosa mi aspettavo tutto quello che ho visto ma quelle 4-5 scene al conflitto interiore intendi qua e di là dove lui effettivamente ci difettiva dice ma io voglio tornare ma se torno cosa farò della mia vita allora io non l'ho ancora finito quindi effettivamente non lo so se ci sta questa cosa diciamo che durante la serie fanno accadere cose di questo tipo nel senso la transizione da maschio a ragazza ne parlano fanno anche vedere la parte sulle mestruazioni su lui che ha un cambiamento e tutto quanto però effettivamente la roba che dici tu del ma io voglio rimanere così voglio rimanere una ragazza voglio ritornare come ero prima me la aspetterei negli ultimi episodi cioè sarebbe una bella una cosa effettivamente essenziale da mettere una piccola parte nell'ultimo episodio ma non è affrontata in maniera seria cioè che la buttano sempre lui più che altro lui come protagonista la butta sempre molto cioè è sempre vista in maniera molto comica la roba non ha il fatto che lui si abitua velocemente alle sensazioni femminili che non mi è piaciuto ho preferito una transizione un po' più lonta però è abbastanza seria come come ragionamento che fa non lo so però buttare quelle 3-4 per me non è una rivelazione per questo perché non riesco a vederlo più di uno show con ragazze che fanno robe belline con grande qualità official power pessimo comunque sono d'accordo con te nel senso che alla fine per dargli rivelazione vorrebbe dire che tipo lo dovrei mettere in S ma non si merita la S no 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 forse se avessero fatto questa cosa che dicevi tu poteva raggiungere quella roba in più quella roba anche da rivelazione però comunque sai cosa io io non lo vorrei mettere in B cioè secondo me è meglio dell'angio letto l'ho percepito infatti io lo volevo mettere in A io lo volevo mettere in A sì pensavo la A ci sta tantissimo per questo anime qui molto molto carino S effettivamente se avessi avuto questi tratti un po' un po' più presi seriamente no no sono d'accordo sono d'accordo vabbè non frega del parere di Anto vabbè ma nel senso alla fine c'ha ragione che non è una cosa da S dai Davide le bambine gli piacciono a Davide giustamente ma allora non mettiamo niente in rivelazione ma infatti sapete che è un problema ci sarà qualcosa ci sarà ci sarà dite va bene ma però questo secondo me effettivamente ci va molto vicino anche perché ripeto io mi aspettavo una roba da C e invece mi sono ritrovato una cosa da A quindi molto bello molto molto bello se poi vogliamo parlare del lato tecnico allora mettiamo gli SSSSSS quello si si vede proprio che ci si sono dedicati molto al lato tecnico è bellissimo io me lo guarderei per tre ore quest'anno però c'è pure una storia di cui parlare andiamo avanti abbiamo Reborn to Master The Blade l'avevamo messo in E qualcuno l'ha visto per caso? signor Andre lo riassumo con Goku al femminile e rimani va bene va bene Goku al femminile è una ragazza la protagonista è un re è una donna dice oh raga io voglio fare il culo a tutti affrontiamoci sei forte è Goku altrimenti è Goku al femminile va bene va bene e quindi è una merda va bene quindi possiamo andare avanti possiamo andare avanti prossimo anime abbiamo Tensei Ojo oh l'Isekai Yuri il famoso Isekai Yuri e vabbè questo io non l'ho continuato il primo peso di Raka Ruccio sta mutato dicono A secondo me è bevina alla prima metà poi dopo la metà inizia a produrre un po' di cose un po' un po' lasciate inizia a mettere un po' ma la storia è più o meno seria o è più comico no è serioso è serioso infatti c'era pure una roba con i draghi nel finale erano cose ha un po' di momenti seri un po' di momenti comici beh io Matteo secondo me però la seconda parte è un po' un po' traballante diciamo è lasciato il loro rapporto si sente che schippano roba la prima mi è piaciuta molto la prima parte mi è piaciuta molto Karatekiz sono le due protagoniste fanno vedere come va il loro rapporto avanti tutto quanto la seconda parte iniziano a introdurre più robe troppo velocemente pure e diciamo si perde un po' il filo e infatti pure Nix dice ah fino alla prima metà ci la seconda comunque dicono tutti che la prima parte è bella la seconda è più sì sì sono d'accordo sono più bella per niente no B ok quindi Anto dice B a me è piaciuta molto la seconda parte ah a me è piaciuta cosa vera incredibilmente Dio Medea ma no non si dice ma Dio Medea tipo lei duce sono quegli studi e i nomi dello studio signori ha fatto un lavoro incredibilmente rispetto ai loro standard di ottima qualità quindi complimenti buono io ho una curiosità su questo anime qua perché vabbè non penso che lo recupererò e no tanto non credo che sia no non credo che sia Yuri però vabbè poco cambia ma alla fine questa tizia qua è una vittima della situazione o in realtà fa la troia quindi è caruccia è rimasto il pensiero si no no perché c'era la situazione del e non si capisce quindi comunque lui c'ha il ragazzo ha quello che si merita Algard von Palettia si si va bene sono contento sono contento per essere Yuri a Yuri è estremamente blando vabbè ovviamente si non ci sono sforbiciate immagino ma abbiamo anche il narratore come supporting è raro vedere il narratore no e va bene quindi abbiamo detto una una B o una A PMB io sono più per la B io sono più per la A due B una A c'è Mvi io A B e allora eh niente qua allora facciamo decidere la chat perché perché l'hai risospeso a official ok facciamo decidere la chat perché dicono tre persone dicono allora in teoria siamo in cinque quindi c'è qualcosa che non guarda Davide dice B è un altro modo che si aggiunge la categoria tazza vabbè facciamo un sondaggio basta la categoria tazza sì che che voto sì vorrei aggiungere che ecco la stagione è stata bella questa stagione qua mi è piaciuto il finale era proprio il finale che volevo il problema è che la novel va avanti cioè a me a tutti gli effetti questa prima stagione mi è sembrata come se si fosse già concluso tutto ma effettivamente c'è una roba che diventasse una cosa come otto mcain no perché allungano il profondo aggiungendo cose sì vabbè official power cdc questo è pazzo vabbè diciamo vabbè vabbè si è appena sbannato ok comunque mi sa che vince B non credo che ci sia neanche bisogno di finire il sondaggio con le 6 persone io so chi sono però a questo punto primo della B magari prima della B prima della B ci sta ci sta va bene andiamo avanti andiamo avanti abbiamo la reincarnazione del più forte esorcista non l'ha visto nessuno perfetto ma da me la sarei voluto vedere perché effettivamente questa stagione non l'ho visto l'isekai brutto non serve neanche vederlo l'ho visto io tutto cosa dice kamikata in realtà l'hanno visto in chat io di vabbè di noi non l'ha visto nessuno ti prego ma è però zona lombare zona lombare è un po' cattivo effettivamente sentiamo cosa dice kamikata guri nel finale il narratore diceva questo è appena l'inizio della rivoluzione se vogliono fare il continuo possono farlo molti dicono D allora mettiamolo in D va bene dai mettiamole una F dov'è non lo vedo ah eccolo qua se ne va insieme a Tokyo Revengers anche perché c'è c'è quello spazietto libero che conviene metterlo in effetti poi andiamo avanti abbiamo buddy deadies questo l'avevamo messo in C però però sentiamo cosa avevamo detto sentiamo cosa avevamo detto la stagione dell'inclusività vedendo Paripi Akiba lo metterei in rivelazione no guarda non diamo per scontato che ogni anime che fa P.A. Works sia un capolavoro perché prima o poi faranno cilecca quindi no non mi da potremmo pure provare hanno già fatto quindi non lo metterei potete non mi dire che pure questo non ce l'ho no ci deve essere questo ecco qua quindi sì forse lo mettiamo in C mettiamolo in C Akiba di rivelazione di sto c***o sì mi sa che non l'avevamo non l'avevamo preso molto bene il primo episodio comunque è stato bello di buddy deadies quindi su questo assolutamente possiamo dire che il primo episodio era caruccio ma però non so come è continuato perché non l'ho seguito è continuato bene mi è piaciuto sì sì è piaciuto è molto meglio tutto il finale il problema di di origine degli animali c'è iniziale lasciato no maschio attivo chiuso tutto in un episodio devono impacchettare tutto però non è troppo lasciato cioè non dici cazzo cioè meglio del solido meglio del solido meglio del solido meglio di spy femmini ma finisce su continuo sì non c'è finito grande times che fa la fine eh però si spoiler eh c'è vi sempre a spoilerare basta veramente basta basta vaffanculo e che stava a dire quindi dove lo mettiamo qua A A A senza problemi sì sì in chat dicevano una B onesta B sì le parti slide of life sono molto belle i valori familiari molto belli il punto è che quando ci sono le parti action sono fatte abbastanza male cioè pure come proprio come i proiettili che non vengono tipo il coso tipo il lui che usa il vassoio per bloccare i proiettili ma non è anche troppo proprio come sono fatte ma proprio concettualmente il tizio lì che in mezzo a 50 persone che gli sparano i proiettili passano tutti a fianco e lui con la cosa ammazzamente eh sì queste cose mi triggererebbero parecchio c'è c'è anche una scena verso la fine sempre di combattimento che ha dell'incredibile che dici non ha senso però dici è un po' controverso ma dicono l'esorcista da B ma l'esorcista si riferiscono a questo? eh B mi sembra un po' tanto eh però l'avete voluto mettere in D quindi le tipe sono belle dico dell'esorcista penso non lo so non lo so comunque andiamo avanti vabbè più o meno Endo Kobayashi the latest on the tsundere villainous L'Isle L'Hot sentiamo sentiamo cosa ho detto sentiamo cosa ho detto game basta basta io non non è un genere che mi piace non mi sembra niente di che questo e quindi scherzando stavo scherzando però basta ho detto basta e qui parlo io basta adesso parlo io adesso parlo io quindi basta grazie per la sab dove andrebbe messo questo a parte B di basta dove andrebbe messo Renato dice rivelazione vabbè io ti dico l'abbiamo visto in tre concordiamo entrambi sul fatto che è un romance della Madonna che è della Madonna per rispondere a Mr. Ma che chiede chi si è visto Tecnoroid Overmind ecco e io e Shenvi niente è solamente la nostra presenza la vicinanza a questa persona mi dispiace per lui ti dico che a me l'iselotte è piaciuto un botto tanto da leggermi la novel ex io senza io ci metto la firma ci metto la mia faccia la metterai in A hai capito però magari non ci mettiamo la tua faccia minchia ma se è finito in A se lo metti in A è rivelazione rivelazione praticamente è rivelazione questo possono la chat due persone in chat possono confermare che vabbè 2 su 75 su 96 aspetta però aspetta però Gisayda ma dice C Rocione dice C questo questo tecnicamente osceno C non lo so non lo so nel senso facciamo una ruota vede Antonello dice C come mi si era tipo frizzato tutto però si è sbloccato per fortuna sì ho visto vabbè pace pace ascolta i moderatori il moderatore è uno quindi non abbiamo molta molta scelta zitti tutti zitti tutti vedi stare su io mi vabbè sei tu contro il mondo di C ti piange il cuore vero se ne vai in A C assolutamente ti piange il cuore se questo va in C voglio anche l'esorcista in C ah è troppo eh non lo so in chat molti dicono ma se no se facciamo una B se facciamo una B di ci veniamo incontro io l'ho droppato però era carino vabbè dai fammo B e ci veniamo incontro anche perché non abbiamo molte tutti dicono C in chat non lo so effettivamente ci sta la rivelazione considerando che l'avevamo messo in E teoricamente anche se andasse solo in B ci starebbe quindi non lo so però a questo punto mettiamolo in rivelazione sì guardate a questo punto fammo così no fammo così perché sembrava una merda sembrava una merda sembrava la solita cacata alla fine sia B sia A teoricamente rivelazzi non hai detto una cosa giusta cosa? va bene la stessa maestro andiamo a vogliamo vedere anche così farming life in another world qualcuno l'ha visto questo? no ho letto il bung e l'ho droppato dopo 150 capitoli 5 pagine a capitolo 150 capitoli non male 5 pagine a capitolo mi sono caduti coglioni poi che con quello penso una E penso una E però no non l'ho visto quindi non posso giudicare io ah no in realtà in chat dicono C, B nessuno di voi quindi l'ha visto? A, B, C devo dire come nasce addirittura zona lombare dice A l'hai ridetto sì ascolta me C va bene va bene mettiamolo in C tutti dicono C mettiamolo in C va bene pensavo peggio pensavo peggio pensavo peggio sì anche io elfe che vogliono scopare allora da SS allora allora da SS sì forse con solo le elfe guarda sì da Maci è arrivato è arrivato Ningen Fushin prima o poi doveva arrivare prima o poi doveva arrivare studio Geek Toys allora io posso solamente dire che il primo episodio era una roba orribilante a livello tecnico ma anche per il resto mi ricordo ancora che il prete che si scopa la puttana me la ricordo ancora come cosa quindi molto molto bello che poi lo diceva cioè cos'era ah no che non avevo capito se effettivamente era perché sembrava sembrava un ristorante sembrava tipo una casa normale tipo un motel sembrava e invece a quanto pare faceva i servizietti la tipa quindi vabbè comunque che gli dite a Ninger Fushin io ho una frase io ho una frase che racchiude sta opera sentiamo Boruto aveva delle animazioni migliori eh vabbè Boruto gli episodi importanti sono fatti bene il problema no comunque l'arco dello stepping man l'arco dello stepping man è una l'arco il che? lo stepping man lo stepping man la gara aritmetica la battaglia scazzottata aritmetica la scazzottata aritmetica e che sarebbe? spiegate due e quattro il drago che fa le addizioni e le sottrazioni è incredibile la tipa drago deve deve fare le addizioni le sottrazioni tutte le cose e in base a come se le fa bene se le fa sbagliate contro un'altra tipa ci sta il protagonista con un uomo non mi ricordo che è un uomo gatto l'uomo tigre l'uomo tigre ma se a quello si possono menare leon la scazzottata aritmetica ammazza che figata e se sbagli dà il colpo all'avversario bellissimo mazza che figata è un concept sarebbe anche carino come concept se fosse ma la cosa più bella di tutta questa scazzottata sono i tizi sullo sfondo madonna che picco i tizi che? i tizi sullo sfondo blurrati in grigio mi dite l'episodio mi dite l'episodio voglio vederlo era il 6 7 forse l'episodio 6 ma sta su Crunchyroll? si anche a te pare che non lo portano però però c'è madonna santa mamma mia Crunchyroll bastardi insomma piccolo sfogo insomma insomma nin ningen fushin l'episodio 6 hai detto ah eccola qua la scazzottata io pensavo ve l'eravate inventato invece si chiama veramente scazzottata aritmetica vediamo 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 mettiamo like preventiva oh 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 mi dite ciao no ma poi ma le mani non sono della vecchia c'ha le mani c'ha le mani c'ha le mani che gli partono gli partono le mani non sono della vecchia ah non sono della vecchia Ok 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 No perché No perché No vabbè però Sì insomma da come me ne avete parlato Pensavo che potesse succedere Questa cosa Vabbè vediamo un attimo A verità qua si è pure fatto Decentemente quasi Il prete c'ha ancora a che fare Con le vizie È un pampone Ma che cosa sono queste cose qua Il merchandise dell'Aide Se no mi bisogna andare a minima metà episodio Ah è qua Tra l'altro il cazzo di protagonista È doppiato da Subaru Che tristezza Diciamo che ci troppo Ha dovuto fare due Oh madonna che roba Tutti uguali Le espressioni uguali Stessa posizione Ma ci sono almeno tre tipi Ma non capito quindi stanno facendo Ma perché loro combattono Perché loro combattono Non avevate detto che prima dovevano risolvere le equazioni E poi No In base In base poi a come finiscono Si dà un pugno Un cazzotto Se uno ha fatto più punti dell'altro Ok Tra l'altro effettivamente sì I tizi grigi sullo sfondo Sono proprio belli Io dico fai attenzione a quello lì Con le braccia concerte Vedi quante volte si ripete in mezzo al pubblico Quale Qual è quello Ah questo qui Lui Lo troviamo a destra Dove è un altro uguale Dov'è Dov'è Grazie anche a mafia Dove sta la punta del mouse Ah qui Lui è vero È lo stesso È lo stesso Ma pure quell'altro a destra ancora Eccolo qua Eccolo qua a sinistra E lui Bello Bello sì Quindi si sdoppia praticamente A dei cloni I poteri sono Poi hanno detto La scena delle scale Quale sarà la scena delle scale Oh Madonna Oh Madonna Oddio Cos'è Cos'è questa cosa Cos'è questa cosa È una roba Orrivilante Mio Dio Mio Dio Sì questa cosa Nel'è stato bellissimo Eh ponendoci Maio Miro Eh maio Miro Siamo quasi Siamo quasi Ma No 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 questo è peggio Questo è peggio È mio Rocolato Bello 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 Ehm Sì questo qua forse sarebbe stato da live Forse sì Forse sì Vabbè Il best comedy questo è La scazzottata aritmetica Sembra un filler di One Piece Solo che quest'anime non dovrebbe durare mille passi episodi Commento Cancelare I primi episodi erano meglio Bello Mi sa che cazzo ho detto Vabbè Eh Bello 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 Mi piace Mi piace Ma la cosa delle scale Guarda se mi dicevi che In che punto era La vedevo pure Però mo stiamo Stiamo dilungando Ci stiamo dilungando Troppo Quindi Va bene così Va bene così Ma ci si potrebbe dedicare una live intera La parte iniziale però Mi è piaciuta Mi è piaciuta Vabbè Andiamo avanti dai Andiamo avanti Quindi se ne vai ne Nel complesso L'idea iniziale Non è male Però Ah ma l'avevamo vista La scena delle scale L'avevamo vista In realtà me la ricordo L'avevamo vista Andiamo avanti Andiamo avanti Campfire cooking in another world Com'è questo L'avevamo messo in C Molto simpatico Un C di onesto Ma non troppo B Tu si va a mettere in B B Animato bene Sicuramente una rivoluzione Il genere Vabbè Vabbè Allora B Ma peraltro La storia È sempre la stessa Lui che cucina tutto il tempo C'è qualcosa di un po' più interessante Va avanti di città Qualche volta livella La magia Imparava Imparo a usare la magia Ok Carino Non c'è CGI Brava mappa Non mi hai fatto in studio mappa Ormai abbiamo la conferma Che è buono Vabbè allora dai B c'è tanto Non penso ci sia troppe cose da dire Su questo anime Quindi andiamo avanti Poi avevamo Ah Questo qual è Questo è Kaina of the Grey's No Sea Full CGI Full CGI Però un po' brutta Mi dà non è la CGI di Studio Orange Qua Non Non una CGI Non ripilante ma neanche Quindi l'avete visto proprio questo Sì 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 L'ho visto E com'è a livello di storia Garuccio? È interessante Più che altro Interessante All'inizio Poi Forse anche questo va un po' confusionale Inizio a mettere Forse un po' troppo a ro Però I world building Molto interessanti Gli sfondi belli Gli sfondi bellissimi Poi le musiche sono fatte dal Compositore di Attack on Titan Della stagione 4 Mazza Mazza Va a calare Ma in realtà Da come ve ne parlate Forse B O C No a calare no Guarda C Tendente alla B Sei e mezzo Prima della C Magari Di meno anche Però Non è male Vabbè Sì Pensavo peggio Allora Sto mettevolo in B Direttamente Tanto Pensavo Mi dicevate che era brutto Invece Vabbè No no Diciamo non è che merita però Di essere recuperato A tutti i costi No No Deve uscire il film finale Comunque Oh Ah pure il film deve uscire Oh Andyman Quello che mi dite di recuperare Com'è Sentiamo cosa avevamo detto su Andyman Che l'avevamo messo in D Che è stato Di Tornato in una spada Eleina Sì vabbè lo studio non è male Ma le premesse fanno un po' cacare Quindi Di Per essere gentili Di Su tutta sta merda ci sarà una rivelazione Guarda A naso A me non sembra Guarda qua Yuchiro aveva scritto E insomma Pensa che merda Ci sono anche gli attrezzi Che parlano Perché avevo detto Bob l'ha giusta tutto Sempre Sempre una sentenza Questi anime che stanno qua sotto A te sembra che ci saranno delle rivelazioni Pure official power Tutta sta merda Ci sarà una rivelazione Eh mi sa che L'abbiamo proprio beccata forse Quindi com'è questo handyman side Rivelazione Senza problemi Rivelazione Sì sì Quindi è una storia così figa Sì la storia diventa Cioè c'è una storia Veramente proprio nella seconda parte dell'anime Allora cazzo lo devo recuperare Inizia anche se Si alterna comunque a molte scene Autoconclusive durante l'episodio Molto simpatiche Tecnicamente ottimo I pg sono simpatici La storia è fatta bene E fa anche divertire I personaggi Sono fatti bene Le animazioni molto bene Grande studio Buono buono Ha un senso È seria Sì 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 Quindi sarebbe tipo da A sarebbe Sarebbe da A Io più gli metterai L'avevamo pure messo in D L'avevamo messo Quindi sì C'è pure un po' di Romance Ma che ne so Ah Romance Perché Io già avevo individuato Avevo individuato La tipa La tipa migliore Mi confermate che è quella Assolutamente Il cavaliere Mi confermate Perché cioè Dai Sarei quasi dire della stagione Addirittura Dove cazzo sta Lei Realza Realza Bella bella Anche poi Ma è doppiata da quella di Power Vai Sei capito Vabbè Molto brava questa doppiatrice Sì Bella bella Buono Lo recupererò Lo recupererò Inter Anto vuole dire qualcosa Ma riguardo No Siamo mutati Stavo per dire qualcosa Prima però vabbè Poi abbiamo The Iceblade Sorcerer shall rule del world questo l'avevamo messo in e l'avevamo messo dopo una quarantina di capelli non lo so, non lo so oddio, è Yano Goji, è Yano Goji questo è lui, è palesemente lui cioè, palesemente è Yano Goji i disegni sono sceni l'avevamo messo in D in E anzi non si vedeva dai tempi di Secchit Magician oddio, avevo fatto una grande prediction e quindi cosa avevi fatto, dove sta? a solo E no no, quello prima palesemente uno di questi in D o in E finirà in S a fine stagione poi prossimo iCard, l'avevamo messo in rivelazione però mi sa che alla fine non è stato rivelazione questo, per fare un esempio il primo episodio era particolare però non eravamo sicuri era il Mincipit, era bello è il Bungo Street Dogs dei poveri che ci ha creduto ma non abbastanza delusione ma non ce l'ha fatta lo metti in delusione come era partito non era affatto male ma è proprio tenato a scemare che non è uno scivolone allora, se noi l'avevamo messo in rivelazione non può finire in delusione nel senso al limite al limite devi finire in D lo metti in D lo metterai in D però il problema è che non c'è tra la seconda stagione che cazzo fanno ma poi non c'è tra la seconda stagione cazzo di cosa per me l'usione più grande è Maogakuin quello anche in parte effettivamente però se vai a vedere la storia non è che conclude c'è il tizio c'è il tizio Cavaliere che effettivamente si è visto nel passato ma non dicono che cosa l'ha fatto vedere tipo 10 secondi basta eh vabbè però comunque è una cosa lasciata lì per darti una situazione c'è il Cavaliere nelle fogne eh in teoria il grande villain del passato del protagonista che però si vede solamente lì cioè te lo fanno 10 secondi nella fine per di te ecco stiamo arrivando questa roba viene da un gioco un multimedia project mi sa che è un original però poi c'è anche un gioco è una peccato peccato sembrava potenzialmente interessante l'avevo messo appunto in rivelazione o anche in B hanno deciso a un certo punto di buttare più sul drammatico invece di poterla buttare sul tamarro cioè potremmo poterla buttare sul tamarro che non fai con cazzo a nessuno esatto invece no l'ultimo mini arco di Chris non mi è piaciuto a me come l'hanno risolto capito capito peccato peccato andando avanti abbiamo chilling in my 30's questo com'è chillando nei miei 30 anni dopo essere stato licenziato dalla dall'armata del re dei demoni dopo che facesse cagare ma non troppo ma se non l'ha visto nessuno schippiamo l'ho letto l'ho letto troppo tempo piace non l'ha visto nessuno quindi in realtà kamikata guri dice b b barra c è la rivelazione di una delusione forse si più high card b minimo c bc famo c famo c famo c famo c dai molto simpatico infatti adesso lo sospetto prossimo anime saving 80.000 gold in another world questo avrà una trama incredibile mettendo da parte 80.000 gold in un altro mondo questo qualcuno l'ha visto oh renata l'ha visto fammi indovinare s questo d ok vabbè ci sta c'è bang rending effettivamente bang rending però d va bene lo accettiamo l'accettiamo prossimo anime abbiamo praticamente finito abbiamo monocatari monocatari questo palesemente è sullo stesso livello del vero monocatari vabbè è mononocatari a mononocatari questo con Eren e Mikasa si Eren è il protagonista paleservinto è la storia sempre lui incazzato con i demoni che gli hanno uccisi i genitori ah quindi è simile li ucciderò tutti si è noioso i personaggi fanno cagare è animato pure per quindi è una E o una D una E bene 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 non bestemmiamo e aggiungiamo un no mono no mono no catari ma era questo con la Oster io l'ho sempre detto con la Oster devi farglielo vedere Eren con i demoni andiamo avanti Revenger questo l'avevamo messo in C il vendicatore questo anche l'ho visto io normale ti direi abbastanza da C Samurai in Camarri così quindi va bene non c'è il Revenger che ci ha creduto più bene poi abbiamo Levi Tokyo e i Revenger oh The Legend of Heroes Trails of Cold Steel North and War non mi venite a dire che l'ha visto qualcuno questo se l'ha visto qualcuno è impazzesco questo è da C sufficienza piena però si riferivano a quello di prima questo The Legend of North and of Heroes Trails of Cold Steel mi sa che non l'ha visto nessuno questa è la prima volta che l'ho visto questo mi sa di no quindi perfetto possiamo io non ci credo molto zona lombare zona lombare non ci credo molto non lo mette che le lascio stare vabbè e andiamo avanti abbiamo 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 Sugar Apple Fairy Tale questo secondo me era caruccio dai il primo episodio è stato carino l'avevamo messo in C sentiamo cosa avevo detto ma una merda si è una storia d'amore tra questi due circondati da altri tizi un classico show show fantasy in questo caso non saprei non saprei anche qua non è il mio genere però probabilmente non è brutto questo non è una merda e questo c barra b alla fine è andato in A si mi trovo mi trovo con c barra b alla fine c barra b si una b anche perché ci si staff si è basso è abbastanza originale come concept però alla fine si perde in acce soliti shoujo vorrei ricordare che è di gis scaffo e ha avuto dei jonas jonas comunque a lì cosa ne pensa carino mi piace molto il rapporto tra la protagonista e chal ricordiamo i personaggi di merda plot twist assurdo dice zona lombare c'è un plot twist mi metta in cile esorcista non è a livello di tokyo è ancora non lo so nel senso lo posso pure mettere in c però non mi ricordo chi è che l'aveva votato l'esorcista mettiamolo pure in c ma non cambia niente anche a livello tecnico jesus ha fatto un buon lavoro comunque ci sono alcuni personaggi che sono odiosi giusto per esserlo cioè sono cattivi perché devono essere cattivi è un po' una stronzata questa però davide dice the legend of heroes ho visto i primi 5 minuti poi mi sono sparato sparato desiderando abbastanza alcol per poter dimenticare onesto e vai abbiamo finito ultimi a fire hunter no mi sono scaricate le cuffie ma no addio un vero fire hunter non l'ho visto nel mentre che aggiusto le cuffie ditemi voi dove lo rankereste eh che vogliamo raccontare però no non ho di bellazione purtroppo non di bellazione c tendente alla b no no aspetta aspetta non è il lato tecnico particolare questo è il lato tecnico abbastanza dietro che ci ha provato ma non non c'è riuscito ha provato ad essere particolare ma al punto si per carità con quei fermi immagini con le tipo illustrazioni che come se fossero una sorta di padart secondo me adesso vi sento vi sento secondo me hanno dato due centesimi in budget proprio due centesimi hanno dato due centesimi di budget che hanno provato a fare quello che potevano ah ma quindi cioè quindi non è bello Firehunter come set perché il primo episodio sembrava sembrava particolare il primo episodio un po' stilisti cioè con uno stile strano intrigante a me è piaciuto molto il Warbeam il Warbeam è molto bello bello sì mi è piaciuto molto il Warbeam c'è in certe fasi troppo provisto in alcune spiegazioni in alcune cose anche ad andare a complicare alcuni concetti che in realtà dovrebbero essere molto più semplici perché alla fine non è neanche troppo complicato però io dopo il terzo episodio non sono riuscito più a seguirlo cioè tipo tutta la parte di Cosci era tutto che parlavano 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 è una storia molto originale i personaggi sono abbastanza belli il lato tecnico pieno di still frame molto enfatizzati e split screen Adam Amorosh che ti aspetti da quel coglione no per me questo quando c'è dentro lui non accade molto almeno B penso ci può stare B secondo me se avesse avuto un lato tecnico buono secondo me non lo è secondo me chi cerca di giustificare se mi dicendo cerca di trovare la giustificazione a un tentativo di stile particolare rispetto al solito ma in realtà se mi dicendo non ci avevano i soldi hanno fatto la favore che potevano per me più C luogo di Angelo madonna sono una cosa ma se molti dicono molti dicono però B cioè molti il senso Sephiroth Procione Jack Devil dicono B voi quindi dite tutti C non è non è da buttare la storia è interessante infatti c'è anche la seconda sezione vediamo come va c'è la seconda sezione spero allora magari andiamo con sta B per non essere troppo cattivi a livello di Nagatoro non si può vedere infatti è meglio Nagatoro a Shenvi non piace Renter Girlfriend e poi dice belle parole su Nagatoro io non ho parole io non ho parole io non ho parole comunque non è una rivelazione comunque non è una rivelazione Fai Renter poi abbiamo su Rune Season 2 brevemente io l'ho visto S a S ammazza pensavo che fosse una roba ma pure Alin te l'hai visto? io ho sempre metà io ho praticamente tutti a metà tutti a metà ne ho viste solo metà però sì anche io direi sullo stesso livello della prima per quello che ho visto prima d'ora ed è tanta roba poi d'altro questo qua è fatto da Kyoto Rimesh vabbè allora immagino clamoroso ovviamente bello va bene S ok ultimo abbiamo Shumatsu no Valkyria questo che deve finire non è manco finito allora basta basta allora giusto per fare un ricappino abbiamo finito perché allora questi qua sono stati fatti tutti 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 pure questi tutti questi pure tutti qua pure tutti forse pure giusto Giant Beast of Arts ce lo potresti mettere che l'abbiamo visto vabbè se è una merda lo lascerei stare hai un tecnoroid per mai un tecnoroid per mai una categoria a parte che la farei per tecnoroid questo qua picco dell'animazione ma la storia di cosa parla giusto per capire ma che cazzo ne so non si capisce ah non si capisce di cosa ah vabbè ah perché è così sarà così complicato che non lo riescono continua con un tentativo di trasformazione sociale di concetto tra libertà dei robot e vivere insieme con gli umani si conclude con un balletto su una torre al quinto stage con bastoncini che si illuminano beh nel senso il balletto buttalo via per cliccare neon personaggio ah ecco è una lei è certo che no è certo è invece è invece è certo genere maschile genere maschile è invece è invece mannaggia molto interessante molto interessante ho appena visto quanto gli hanno dato 08 Anto eh sì 08 e 1.1 Shenving di sicuro un bell'anime di sicuro un bell'anime questo gentile va bene e quindi raga abbiamo finito abbiamo finito alla tier list degli anime dell'inverno 2023 alla fine solamente Villain Saga è andato in SS forse no in realtà forse forse giusto Attack on Titan magari ci poteva andare ma alla fine no quindi Villain da solo in SS in S Attack on Titan My Rockademy Eminence Trigan Bungo Dammachi Tsurune in A Tomodachi sì Tomodachi Game Tomochan is a girl comezzo comezzo non è nata seconda stagione Onimai Buddy Dead in B Lisekai Yuri Blue Hawk Iruma Kyoko Suri seconda stagione Angel Next Door Ice Guy Campfire bla 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 e basta poi gli altri anime sono un po' una merda posso dirvi alla fine è andata pure meglio di quanto mi aspettassi perché dopo che avevamo visto dopo che avevamo fatto la live su tutti gli anime qua era uscito fuori un po' una merda in S guardate qua cosa ci avevamo eh però considera che 3 non ho visto Exarm considera che non ci stanno i Leftovers guardate qua è vero i Leftovers sarebbero va bene Adel in S ci stanno Maira Accademia Eminence quindi allora se togliamo Mairo Mairo ed Eminence ma poi c'era U e anche Attack on Titan quindi alla fine di cose in più di cose in più si sono aggiunti Dammachi e Tsurune anche in A in A pochissimi in A si è elevato Nier in A vabbè anche qua ce ne stanno solo due in più quindi però nessuno anzi Dammachi è salito ma Okakuin adios ma in realtà è stato abbastanza in linea devo dire molta più roba forse nella parte in questa parte qua di mezzo la parte centrale è stata molto votibile per me questa stagione cioè di roba alla fine di roba brutta brutta ce n'è stata poca c'è stata più una stagione magari nella media che è una stagione bella sì una stagione nella media quindi mi aspettavo peggio però l'unica cosa appunto se escludiamo i leftovers quindi se togliamo My Hero Academia Attack on Titan Eminence e basta Dammachi non è un leftovers capite bene che capite bene che gli anime migliori no no però Attack on Titan è un singolo episodio non lo so ma alla fine è come se fosse un film sono tre episodi sì quindi vabbè non sarebbe da arrancare comunque vabbè se quindi consideriamo solamente gli anime normali nuovi cioè come potete dire è poca roba cioè Villain Saga poi considerate anche che non tutti seguono cioè alla fine sono anime che hanno pure molte cioè non tutti seguono Bungo non tutti seguono Dammachi cioè alla fine di anime nuovi quindi se escludiamo le seconde stagioni solo Triggan quindi solo Triggan Triggan Onimai Tomo-chan Andy Manzaito che sta in rivelazione ah è vero eppure Andy Manzaito quindi diciamo che alla fine le cose belle sono state Andy Manzaito forse gli slot ma non ce l'hanno visto in pochi quindi non l'ho detto Triggan siamo a tre e vabbè possiamo dire anche Tomo-chan Onimai e Buddy Daddy diciamo cinque sei anime carini ci sono stati però niente di eccelso cioè l'unico forse eccelso Triggan è l'unico l'unico bello bello Triggan insieme Andy Manzaito non sarebbe da S mi sape sì una 9 ricordiamo che S è 9 io io forse S è basso gliela potrei dare vabbè 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 quindi diciamo che l'unico l'unico bello bello di quelli nuovi è stato Triggan gli altri carucci bellini però forse pure Andy Manzaito però sì la stagione per colpa del covid è stata un po' ma poi parliamoci chiaro eh ma Kakin stendiamo un velo pietoso Nier Automata pure ma non credo a Yakashi non credo che il covid sia stato il problema di questa stagione sinceramente quindi sì ma nel complesso è stata onesta solo forse quella primaverile sarà mille volte meglio ma giusto per fare un paragone e poi ci salutiamo volevo vedere reanime guida anime autunno invernali no 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 2022 però voglio vedere il recap 2022 recap estate recap inverno 2022 eccolo qua allora nel 2022 cosa avevamo cosa avevamo ah qua capirai qua vedevamo pure le cose le vostre tier list però qua facevamo pure molti meno anime molti meno anime facevamo allora qui aveva questa già la preferisco questa già la preferisco mille volte attacco on time adenosama ranking dress up darling dimon slayer vanitas questa era era meglio di quest'altra secondo me per certe cioè ripeto se escludiamo perché qua noi non consideravamo sempre i leftovers quindi io cioè i leftovers ok d'ora in poi li consideriamo però se togliessimo appunto my rock academia eminence blue lock forse beh che però cioè quello che ti ripeto è che la parte centrale comunque se puoi vedere la stagione nel toto se tu dividi anche più roba ti godi più questa stagione qua rispetto a questa qui eh si non lo so il fatto è che appunto ne facevamo pochi la scorsa stagione perché come potete vedere ah c'era platinum hand c'era che roba poi c'era capirai sabbico e disco che roba che roba ma diciamo che forse eravamo lì eravamo lì con la stagione invernale 2022 non mi sembra che c'era tutta sta differenza cioè qua mo sembra che è più bella questa ma semplicemente perché ci stanno il doppio degli anime cioè in questa in questa tier list che abbiamo fatto ce n'erano pochissimi quindi sarà per quello sarà per quello va bene ragazzi quindi questo è quanto io avevo preparato anche quella dei personaggi però si è fatto tardi nel senso non credo abbia senso fare pure i personaggi ormai ma è re dei stagionali è re dei stagionali come ti ho detto lo devo vedere per conto mio lo devo vedere ah hai ragione quindi sì tanto alla fine i personaggi quindi non li faremo nel senso io chiedo voi in chat però non so se no no vi prego non ce la faccio tutto sotto ci mettiamo troppo ci mettiamo troppo anche perché più che altro sapete cosa meglio cioè noi riuscivamo a fare i personaggi prima perché facevamo pochi anime erano molti meno anime mentre adesso li facciamo praticamente tutti gli anime nella tier list quindi non è meglio fare tutti gli anime e lasciare stare i personaggi tanto alla fine i personaggi non ce ne frega niente veloce veloce no no non lasciamo stare sempre controcorrente zona lombare sempre controcorrente sono i migliori ma sapete cosa magari potremmo fare una live dedicata solo ai personaggi non so in che contesto ma non serve a nulla statieri questi personaggi sinceramente tanto in città che direi che è il più che è il più di tutta la stagione sti cazzi che è la web della stagione sti cazzi che è il cuore della stagione sti cazzi dai mettere almeno Ryu in SS e poi chiudi chi cazzo è Ryu eh la tipo esatto chi è oh va bene va bene dov'è è prima Rari Rari SS a posto quindi la live è finita andate in pace